Grazie a tutti Compila quindi boh E sul blu tenebra Andiamo in arresto Cardio circolatorio Citazione del mitico Fantozzi La partiamo benissimo Con un po' di colpi di tosse Ciao Valerio Ben arrivato Devo scusare un po' per l'assenza Ma è stato un mese un po' difficile A livello Ho dei colori Uno peggio dell'altro Sono troppo rosso Sono troppo blu Facciamo che lascio Lascio così E mi sto anche un po' accecando Lascio così e basta Così sono intornato con lo sfondo Ho saltato qualche live Ma Purtroppo è stato un mese un po' Impegnativo Sì dal punto di vista Lavorativo Che Che non Più il non E quindi Dopo l'ultima Live Con il mitico Maurizio Del Magno Qualcuno potrebbe pensare E potrebbe essere un Potrebbe essere un motivo Che dopo quella live Siamo rimasti traumatizzati Perché Ho ancora Gente che mi scrive un feedback Dicendo Adesso la La vado a vedere Poi scrive Quattro ore E effettivamente Era un po' lunghetta Siamo stati un po' Un po' tanto A Trastullarci con Il mitico Iorm Però Secondo me è stata Una bella live Perché In parte Ave scoperto Un sacco di cose interessanti Sul Sul framework In senso Questa libreria Che esula Anche proprio Dal suo essere Orm Quindi anche Dal Dal fatto di Così aiutare Nel Nel fare del Binding Con dei dati Finestre diverse Quindi scrivere Sempre meno codice Che è una cosa Sembra una brutta cosa Ma Non è una Brutta cosa Perché ovviamente Se lo scriviamo In virtù del fatto Che usiamo Cose che sono Collaudate Ovviamente Questo è Ci aiuta A fare Ovviamente Anche Dei programmi Un pochino Più robusti Ho chiesto Un po' Di Un po' In giro Ho detto Ma di cosa Si potrebbe parlare Mi hanno proposto Tre argomenti Io mi sono scelto Il quarto Cioè Quello Perché Un argomento Che poteva essere Interessante Ma lì sicuramente Ci daremo Un'occhiatina Alla nuova API Di Whatsapp L'altro giorno Sul Sul gruppo Di Delphi Club Italia Che c'è lo stemmino Qui sotto Vediamo se lo indico Giusto Esatto Ma che De volte Va dalla rovescio Nella pagina Facebook Si parlava Appunto Di API Per comunicare Con Whatsapp E pare Che Il buon Zuckerberg Abbia finalmente Deciso Di creare Delle API Pubbliche Quindi Per Da usare Per lo scambio Di messaggi Ho fatto una prova Rapidissima Nel creare Proprio Un'app Ultra veloce Una cosa Proprio da un quarto D'ora Ho visto che funziona Quindi ho detto Potrebbe essere interessante Anche questo Da portare Chiaramente L'app Cioè Il messaggio Dice Ciao Grazie per esserti iscritto Quindi È un hello world Però Può essere interessante Finalmente C'è un Un'interfaccia Ufficiale Per Whatsapp Business Che molti usano E quindi Vabbè Lì ero già A posto Con Telegram Che ha un eccellente Ci sono i bot Ci sono un sacco Di funzionalità Però Il fatto che Si aggiunga Anche questo player Non che prima Non fosse presente Però bisognava usare Libreria O comunque Delle interfacce Di terze parti Tipo Twilio Cose di questo tipo E Ad oggi Invece C'è Questa cosa Diretta Per cui Magari Qualche Sperimentazioncina Ce la Ce la faremo Poi Un'altra cosa Non ce l'ho Qui sotto mano Mi piacerebbe Iniziare a vedere Delle cose Di python Però Inteso come Sperimentare Assieme Con linguaggio Partendo proprio Dalle basi Quindi Vedere Un po' Di Come dire Utilizzo Delle strutture Dati Un gatto Che sta impazzendo Guarda che Non c'è bisogno Di bussare C'hai la tua Gattaiola Quindi se vuoi Uscire Ogni tanto Si dimentica Che ha Il suo Accesso Privato Iniziare A usare Python Però Vedendolo Proprio Dalle strutture Basi Tipo Dizionari Tuple E quant'altro Iniziare A costruirci Delle Classi Cioè Qualcosa Un po' Più Strutturato E poi Come dire Mettere un po' Alla Alla Sperimentazione Quelle Quelle Liberie Che sono Disponibili Per fare Elaborazione Di Testi E di Perché Mi è Arrivato Un libro Di Serena Sensini Che saluto Che è Su Python E quindi Edito Da Pogeo Sulla Come dire Analisi Di Testi Di Audio Eccetera Da fare Con Python E quindi Sarebbe interessante Vedere qualcosa Da questo punto di vista Però Partendo anche Proprio Dalle basi Analizzando un po' Il linguaggio Le sue differenze Da un punto di vista Delphi Developer Ma non necessariamente Quindi è chiaro Che Anche perché Sappiamo che c'è Un'integrazione Abbastanza Buona Tra i due Linguaggi E quindi Tutto quello Che si riesce a fare Chiaramente Si può sfruttare Anche da Delphi Perché Ricordiamo Sempre C'è Sia Una Libreria Grafica C'è la VCL Firemonkey Per Python Ma anche Con Python For Delphi Anche la possibilità Di invocare Cose scritte In Python Da Delphi E quindi Unire un po' Le cose belle Dei due mondi Per cui Fare un po' Tutte le due cose Assieme Vabbè Detto questo No Argomento Della Serata Che alla fine Ho scelto In barba Tutti i suggerimenti Perché i suggerimenti Vanno molto Sui Desiderata Ma poi Io Minimo Qualcosina Lo devo Avere Lo devo Sapere Proprio Per non andare Alla cieca Come in realtà Farò questa sera Perché in realtà Andrò alla cieca L'argomento È un po' La Che ho Pensato È un po' La dependency injection Perché siccome Abbiamo iniziato A dare un'occhiatina A Spring 4 4D E Qualche volta Qualche live Fa Un paio Perché non sono tante Abbiamo iniziato A guardare Il Le sue funzionalità Sugli Enumerable Su Queste strutture Dati C'è anche una parte Legata Alla dependency injection Nello specifico C'è un container Più Più avvicino A questo Aiuto 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 Cade tutto Scusate del botto Ma Che si sarà sentito Ma È che Volevo avvicinarmi La luce Più me l'avvicino Più mi acceco E meno Effetto Da Cioè comunque Rimango sempre Dello stesso colore Non capisco Come mai Oh Mitico Maurizio In chat Stavamo appunto Parlando qualche Secondo fa Della Della nostra Maratona Adesso provo di nuovo A cambiare il colore Ma è sempre peggio Della nostra Maratona Di Iorme Con cui abbiamo Tenuto sveglio Una marea di persone E E che è stata Così devastante Che non abbiamo Fatto più No Non è stato Ovviamente Per quello Sono stati Altri motivi Però diciamo Quella è stata Impegnativa Direi per entrambi Ma forse più per te Che hai dovuto spiegare Però è stata divertente Perché abbiamo visto Un sacco di cose E dicevo L'argomento di Questa sera Che volevo un po' Approfondire Era la Dependency Injection Che è un E' un termine A me piace Perché Nell'informatica Usiamo tanti termini Per indicare Delle cose Che poi alla fine Non sono neanche Complicate Però Cioè Anche quando Non so Mi è capitato Qualche corso Di nominare Solid Principle E di Come dire Spiegare Gli acronimi Più Calcavo sugli acronimi E ovviamente Lo faccio apposta E più la gente Si spaventava Perché List of Substitution Principle Cioè Hanno dei nuovi Mentalmente complicati Per roba Che Alla fine Cioè Adesso non è Ovviamente C'è un po' dietro Chiaramente Da studiare Cioè da studiare Da provare Quindi sono cose Un po' da sperimentare Però non sono Assolutamente Cose difficili E anche la dependency injection Non è Nulla di Di particolarmente Duro E scientifico E stratosferico Ma Sta a indicare Solo il fatto Che Noi da bravi Sviluppatori Quali Quali siamo Quali dovremmo essere Sviluppatori Programmatori Chiamiamoci come vogliamo Dovremmo Fare Delle classi O comunque Dei tipi di dati O comunque Aggregare Le funzionalità Di Ciò che Realizziamo In poche parole Senza Che Le nostre Strutture Facciano troppe cose In generale Volendo rispettare Il principio Della responsabilità Singola Dovrebbero farne Una sola Quindi Se creiamo Non so Una business logic Carica di dati Da database Dovrebbe fare Solo quello E non occuparsi Dell'interfaccia utente L'interfaccia utente Dovrebbe essere Scollegata Se c'è Della business logic Di validazione Se c'è Del logging Se c'è Un invio Di una mail Ognuna di queste cose Non dico che una classe Non debba Invocare L'operazione Ma Se Ho ad esempio Una classe Dove Salvo Dei dati E devo inviare Una mail Quell'invio Di mail Se sono la classe Che salva i dati Va magari Eseguito Contestualmente Ma non deve essere Implementato Nella stessa classe Cioè la classe Non dovrebbe fare Avere più di una responsabilità Quindi avere più di un motivo Per poter essere cambiata Voglio cambiare Il modo in cui salvi i dati O voglio cambiare Come invio la mail Se agisco sulla stessa classe Vuol dire che Questo principio Di fatto L'abbiamo Violato Dependency Injection Inversion Of control Sono tutti Termini che Si sentono Abitualmente Per indicare Il fatto che Alcune operazioni Ovviamente Devono essere Se una classe Ha bisogno Di Che ne so Inviare una mail Quando viene inserito Un ordine Vuol dire che Quella classe Deve eseguire Queste operazioni Ma l'invio Della mail Va fatto Da una classe Separata Da un altro oggetto E quindi Ci deve essere Ovviamente Una delega Di responsabilità Inversion Of control Vuol dire che Il più delle volte L'operazione Viene delegata A qualcosa di esterno Che viene passato Come parametro In modo che Noi possiamo utilizzare Quell'oggetto Per accedere A una serie Di servizi E quindi Ogni volta Che abbiamo Un'astrazione E abbiamo Un'implementazione Anche in quel caso Dovremmo usare Le dipendenze Quindi dovremmo usare Un altro oggetto Per svolgere Il compito Cioè Se io Ho un messaggio Da inviare E voglio Inviare una mail E non so Colloquiare Via smtp Quel servizio Di colloquio smtp Dovrebbe essere In qualche modo Esterno Estraneo Alla nostra Business logic La business logic Dovrebbe chiamare Un mailing service Generico O magari Volendo stare Ancora più generici Un communication service Che ne so Diamo gli nomi Che vogliamo Qualcosa che comunichi Avere un metodo Per dire Send message E quando lo andiamo Invocare Quello dovrebbe essere Implementato Da una classe Reale Che faccia Magari Che svolga Questo compito Quindi Inviare il messaggio Fattivamente Ma potremmo Anche avere Tante altre classi Magari un domani Non siamo più contenti Di usare smtp Perché funziona Effettivamente Malissimo La maggior parte Dei provider Molto fallace E Vogliamo usare Send grid Che è un servizio Innovativo Che invece di smtp Ha una API rest Noi possiamo Togliere la classe Che lavora Con smtp Metter la classe Che lavora Con rest Quindi riceve Gli stessi messaggi Ma Comunica In un modo Diverso E avere Un altro sistema Che riparte A funzionare Con un'implementazione Praticamente Diversa Da quella Di prima Per quanto riguarda I dettagli Implementativi Di servizi Esterni E tutto ciò Che non è La parte Una nostra Business logic Senza Possibilmente Cambiare Cambiando Il codice Che sta attorno Quindi questo Generalmente Come lo otteniamo Usando Spruttando Adeguatamente Delle interfacce Quindi Creando Ogni volta Che abbiamo bisogno Di accedere Una funzionalità Che non è propria Della classe Che stiamo sviluppando Dovremmo Interagire Con un'interfaccia Che rappresenta Quel servizio Avere una classe Che implementa Quella Quell'interfaccia Quindi ci dà A tutti gli effetti La funzionalità E far sì Che questa Questa classe Venga istanziata Ci venga passata Al nostro oggetto Come Come parametro Come Nel costruttore Oppure come proprietà Oppure come un metodo Di set Se volendo Ci sono varie alternative A seconda Della connotazione Che si vuole dare Anche questo oggetto E Questo Vuola anche dire Che la creazione Del nostro sistema L'avvio dell'applicazione Potrebbe essere Anche Qualcosa Di complesso Potremmo Potremmo dire Cioè Potremmo Se ogni oggetto Ne usa un altro Per accedere A determinati servizi E l'altro Sua volta Ne usa altri E noi potremmo Vedere il nostro sistema Come un insieme Di oggetti Che fanno cose Molto diverse Che sono Totalmente indipendenti E anche sostituibili Che è sempre una cosa buona Questo deriva tutto Ovviamente dai Dai mitici Solid Principle Ma che Assieme Come dire Garantiscono Coesione Cioè Sono Collaborano in un modo Proficuo tra di loro E alla fine Realizzano Quello che è il sistema Complessivo Quindi non un monolite Che fa tutto Però dividerle a cose In tante classi In tante Eventualmente Gerarchie Questo può voler dire Che la nostra applicazione Quando si avvia Ha bisogno di creare Non un oggetto Ma un Un grafo Di oggetti Che potrebbe anche essere Molto complesso Quindi Questa è una cosa Che noi potremmo fare Manualmente Ricordiamoci Che esistono anche Delle classi factory Perché anche la creazione Di oggetti È una responsabilità Quindi se noi abbiamo Una classe Che Definisce un oggetto E questo oggetto Nella sua vita Ha bisogno di un altro oggetto Il fatto che lo vada a creare Autonomamente Vi olaggiare Il principio Della responsabilità Singola Perché un oggetto Che crea un altro oggetto Per sfruttare Una funzionalità Per implementare Una determinata Feature Una determinata Funzionalità Se crea anche l'oggetto Ne sta facendo due Perché anche la creazione Di oggetti È di per sé Un compito Oltre al fatto Che creare un oggetto Vuol dire anche Fare riferimento A una classe specifica E quindi legarsi A Come dire A un'implementazione Specifica Cosa che noi Non vorremmo fare Cioè noi non vorremmo Creare Una lampada Che quando la compriamo Si Come dire Si costruisce una spina Per l'impianto elettrico E si allaccia Cioè noi vorremmo avere La spina La lampada L'adattatore Così come quando Ci montiamo Come dire I mobili Dell'IKEA Così come Montiamo un trapano Ecco Il trapano C'è la batteria C'è Il mandrino C'è il motore Ci sono tutti oggetti C'è il pulsante Che non si assomigliano A tra di loro Ma messi assieme Sono Come dire Realizzano Qualcosa di Funzionante A livello Complessivo Globale Però Devono rimanere Indipendenti Devono essere sostituibili In quel caso Per la riparazione Nel caso del software Anche un po' Per lo stesso motivo Perché possiamo anche Avere dei bug Ma anche perché Un domani Vorremmo poter sostituire Un'implementazione Con un'altra Una magari Che è più performante Una che è diversa Per necessità Specifiche di business Oppure Se è un qualcosa Di aperto E siamo rispettosi Dei principi solid Possiamo metterne Anche N And Twitch Grazie per il Follow Il nome Molto adatto a Twitch Ci mancava Per essere completo Ok Quindi Senza tediare Troppo Sulla questione Dependency Injection Diciamo L'introduzione Inizia e finisce Finisce qui Perché Comunque Volendo trovare Delle informazioni Noi ne possiamo Parlare Quello Senz'altro Introdurla A livello generale Quindi Se volessimo essere Un pochino Accademici Quello che potremmo dire Sulla Dependency Injection Che è sempre questo nome Così Così Particolare È semplicemente Una tecnica Dove noi abbiamo Un oggetto Che dipende Da altri oggetti E quindi Il secondo oggetto Diciamo È una dipendenza Utilizzata Dal primo Cioè Un oggetto Che ha bisogno Di un altro È una dipendenza Quindi Il fatto che Per funzionare L'uno ha bisogno Dell'altro Realizza Di fatto Una dipendenza Un termine Poi generico Che si può Intendere A volte Come Dipendo Da un package Dipendo Da una Libreria Da una unit Quindi Diciamo Più livelli Per come Le intendiamo Noi Facciamo riferimento In questo caso Specifico Alla questione Delle Oggetti Quindi Di classi Di per sé Questa poi È la Come dire È la definizione Accademica Più in generale Sempre a livello Accademico Si dice Che quando C'è una classe A che usa Qualche funzionalità Della classe B La classe A ha Dipendenza Dalla classe B Questo è Ovviamente Quando si parla Di classi Questo si cerca Di evitare Usando Le interfacce Cioè Invece che Legare assieme Oggetti Di classi Diverse Si lega Un oggetto A un'interfaccia Che poi sarà Implementata Da una specifica Classe E questo Già ci consente Di Come dire Programmare Verso Una strazione E quindi Utilizzare Una spina Per collegare Questi due Elementi Che è molto Più In termine Lose Lose coupling Cioè Molto più Blanda E molto più Leggera Per così dire Meno Impegnativa In un certo senso Tra i due Elementi Generalmente L'esempio Che poi Si usa È quello Di Ad esempio Avere una Macchina Che contiene Ruote Il motore Si usa Un po' Questi esempi Un po' Stupidelli Effettivamente Quindi Potremmo dire Che in questo Caso E questo Potrebbe essere Un caso Dove Se abbiamo Una classe Car Magari La classe È responsabile Per la creazione Di tutti Questi Oggetti Che Dipendono Dipendono Tra di loro Però Sarebbe Sbagliato Se noi L'immaginassimo Così Quindi Potremmo avere Oggetti Che Identificano Rappresentano Le ruote Un oggetto Per il motore Ovviamente Appartenente A relative Classi È un oggetto Macchina Che Li racchiude Tutti Ecco Il fatto Che L'oggetto Macchina Che appartiene A una classe Macchina Abbia Nel costruttore Per fare Un esempio La creazione Di tutti Gli oggetti Se ci pensiamo Bene Può essere Comodo Ma non è L'approccio Corretto Perché Se creiamo Oggetti Come Ad esempio Un motore Come può essere Un motore Come possono essere Le ruote Magari Le creiamo Di un certo tipo Ma che ci dice Che un domani Non vogliamo cambiare Quel tipo Sostituirlo con un altro Quindi noi creiamo Degli oggetti Nell'oggetto Macchina Che fa D'aggregatore Se vogliamo Cambiare le gomme Dobbiamo cambiare L'oggetto Se vogliamo cambiare L'aggregatore Dobbiamo cambiare L'oggetto Macchina Quindi stiamo Già cambiando Due cose Nella stessa classe Vuol dire Che il principio Non è Di responsabilità singola Non è rispettato Quello che dovrebbe Accadere Che il nostro oggetto Macchina Riceve Dei riferimenti Agli oggetti Ruote Motore Un po' come appunto Montare la macchina Però dovrebbe esserci Qualcosa Che rappresenti Quell'entità esterna Che prende una macchina Sceglie i componenti Quindi sceglie anche Gli oggetti Se non nel tipo A quanto meno Come sono configurati Inizializzati E li mette assieme Perché anche il compito Di creare questi oggetti È un compito E pertanto È responsabilità Di una classe Questa classe Noi la potremmo scrivere Direttamente Tramite codice Quindi Avere una nostra factory Che va a creare Una car E magari dietro Non so Una certa serie Di impostazioni O string Che passiamo O riferimenti Perché magari È un sistema Che consente Di registrare Cose di tipo diverso Va a costruire Un grafo di oggetti Dove C'è la mia macchina Composta Dal motore Che a sua volta È composto Da oggetti Più interni Va a creare Questo grafo Di oggetti Quello che in realtà Dovremmo sperimentare In questa live È il supporto Che ci dà Spring4D Su questo frangente Ovvero Consentirci di costruire Questo grafo Ma in maniera Configurabile Poi Approfondiamo Anche un attimo Proviamo un attimo A pensare A quale può essere Un esempio Che potremmo fare Per Per esercitare Il nostro Come dire Sia per sfruttare La libreria Non dovrebbe esserci Mai più di motivo Per cui Desiderare Di modificare Una classe oggetto Esatto E si dice anche Mai desiderare La classe oggetto Da altri No Questa è un'altra cosa Forse Mi Dipendenza Ereditarietà Non sono sinonimi Vero Beh No Sinonimi No Però sono correlati Perché se tu Erediti Ciao Sandro Ho dimenticato Di salutare Che non è il massimo Se tu Erediti Da una classe Tu Sei dipendente Da quella classe Quindi L'ereditarietà È un esempio Di dipendenza Infatti poi Ed è Una dipendenza Molto stretta Che quindi Andrebbe Attuata Se C'è una motivazione Molto forte Per farlo Perché Ereditare Da una classe Stabilisce Un legame Molto forte Tra Tra queste due Classi Rispetto A quella Che potrebbe Essere Una Una dipendenza Per composizione Ovvero Le due Classi Danno luogo Di oggetti Di cui Uno ne usa Un altro Che è già Molto più È molto più blando Come tipo Di Di struttura Però È un esempio Di dipendenza Quello è molto forte Perché Comunque Chiaramente Ogni cosa Che Tu Modifichi Sulla classe base Si riverbera Sui discendenti E quindi Questo è il motivo Per cui Dimenticavo Di attivare La musichetta Che c'è sempre Quindi Però È un ottimo Esempio Un altro Esempio Può essere Quindi Generalmente Come Dependency Injection Noi ci riferiamo A questo Cioè Abbiamo Un oggetto L'oggetto Fa diverse cose Tipo Non so Consente di creare Un ordine A un certo punto Deve inviare Una mail L'implementazione Dell'invio Della mail Non la mettiamo In quell'oggetto Perché altrimenti Avremo Come dire Un Un A tutti gli effetti Avremo Una Una classe Che fa due cose E questo è Diciamo Non è proprio Concettualmente Sbagliato Potremmo dire Però È deprecabile Perché ci crea Una commistione Di cose Che poi Difficilmente Siamo Eventualmente In grado Di gestire Perché dobbiamo Abbiamo più di un motivo Per cambiare Quella classe È un po' come Quando facciamo Le applicazioni VCL Di un certo tipo Noi ci ritroviamo A fare l'interfaccia A mettere tutto assieme E quindi A quel punto Abbiamo La griglia L'interfaccia Abbiamo tutto Mescolato E quindi Solo che Cambiamo qualcosa Un if Non siamo più sicuri Di quello che Stiamo Stiamo facendo Meglio Siamo sicuri Però Rischiamo di Riverberare Anche su Parti dell'applicazione Che non dovrebbero essere Non dico Toccate Ma neanche meno Proprio modificate Non dovremmo neanche Andare a cambiare il file Proprio Se abbiamo Un sistema Di su sconto Non dovremmo Proprio Avere nulla Da Da cambiare Quindi La tecnica Qual è Abbiamo una classe C'è della logica Creiamo un oggetto Di questa classe Deve inviare una mail Questa mail Viene inviata Facendo riferimento A un altro oggetto La domanda Che viene dopo È Ma questo oggetto Quindi Come glielo passiamo Perché Il concetto è La classe Non dovrebbe creare Quell'oggetto Perché Perché Se lo crea Vuol dire che La classe È dipendente Da quell'oggetto Perché Per crearlo Deve fare riferimento Alla classe E quindi La classe Sarà in una unit Le due unit Le due classi Si vedono Cioè Nessuna può esistere Senza l'altra Altrimenti La create Non la puoi fare E quindi Vuol dire che Se ho bisogno Del mio servizio Di invio mail Non lo posso È meglio Non crearlo All'interno Della classe Che ne ha bisogno Vuol dire Che quel riferimento Mi dovrà essere Passato Dall'esterno Che poi È tutto il sunto Del termine Dependency Injection Ovvero Il fatto che I riferimenti Agli oggetti Che utilizzo Per Svolgere Un servizio Una parte di logica È implementata Nella mia classe Una parte di logica È in classe Separate E quindi Per invocarlo Ho bisogno Di riferimento A un oggetto Come posso Passarlo Se non lo posso Creare Potrei passarlo Dal costruttore Quindi avrei Una In quel caso Una constructor Injection Con constructor Injection Generalmente Si usa Quando Tu hai bisogno Di un oggetto Per poterne Far funzionare Un altro Cioè Una dipendenza Di cui Non puoi fare A meno Però Diciamo Nel costruttore Generalmente Si tende a non Mettere un riferimento Alla classe Ma tutto al più Un'interfaccia Che Ad esempio Un communicator Poi vediamo Un po' di codice Che è sicuramente Più esplicativo Quindi Un riferimento Un'interfaccia Che svolge Un certo servizio E a cui Qualcuno Non la classe Di cui stiamo parlando Ma qualcosa di esterno Dovrà passare Il riferimento A un oggetto Da utilizzare Che io potrei A quel punto Scegliere In fase di avvio Del programma E usarne anche Diversi Perché nulla Quindi avrò Che nella creazione Dell'oggetto Dovrò passare Quel riferimento A un oggetto Che mi serve Per poter funzionare Quindi Questo è Il primo caso Constructor Injection Ci sono anche Dei casi Dove La dipendenza Può essere Facoltativa Ovvero Potrei avere Una classe Che ad esempio Ha bisogno di Loggare Delle informazioni E quindi Invece che Nel costruttore Io potrei Accettare Potrei avere Una property Injection Ad esempio C'è una proprietà Che mi consente Di Impostare Un oggetto Che implementa Un'interfaccia Chiamiamola Ilogger E quindi Se tu Quella proprietà Me la imposti E mi dai un riferimento A questo oggetto Io lo utilizzo E ti faccio Il logging Se tu la lasci A nil Non assegnata Ovviamente Quindi Non impostata Io il logging Non lo faccio Banalmente Quindi Qui siamo in un caso Dove Stiamo usando Una dipendenza Da un oggetto Che può essere Resa facoltativa Questo Vale anche Come nel Constructor Però in genere Quelle che vengono Messe nel costruttore Mettere nel costruttore È un po' Come dire Io di questo Ne ho bisogno Per partire Quindi Questo è un po' Il mio Il mio Come potremmo definirlo La mia dipendenza È vitale Da un certo punto di vista Mentre quella Per property È più Facoltativa Perché ovviamente La property Parte non impostata La imposti Se vuoi O subito dopo O comunque Quando Quando ti serve Quindi passo Ovviamente Devo Il discorso Qual è? Che devo trovare Un modo Per passare Al mio oggetto I riferimenti Agli oggetti Di cui ha bisogno Quindi scelgo Vari punti Di ingresso Dove andare A inserire In modo che Come dire L'oggetto Li possa utilizzare E possa andare A chiamare i metodi Possibilmente Evitando di riferirmi Direttamente A delle classi Per non creare Tra i due elementi Ovviamente Un Come dire Una saldatura È un po' Come se io Creassi delle spine Della corrente Che a cui potessi collegare Da cui uscisse un filo Che andasse direttamente Alla lampada I due oggetti Sono separati Sono indipendenti E questo è un vantaggio Però se il filo Va direttamente Alla lampada E la lampada Entra nel mio impianto Cioè se non ho la spina Mi perdo Parte di quel vantaggio Del fatto Che le due entità Sono separate Mentre il fatto Di avere la spina Vuol dire Che io potrei Accendere Potrei Ho il mio impianto Ho la mia presa Arriva la corrente Stacco la lampada Potrei attaccare Una tv Sono due oggetti Di tipo Molto diverso Tra loro Perché la televisione È una lampada Ha una complessità Leggermente diversa Però Siccome entrambi Rispettano L'interfaccia Data dalla spina Quindi 220 Tot amper Eccetera La metafora Della spina Inteso come Che poi Un'interfaccia È molto valida Per far capire Che questo tipo Di separazione Tra le due cose È un concetto Che dà molte possibilità Dal punto di vista Di scambiare Gli oggetti Da una parte E dall'altra Senza Comunque Dover modificare Nell'uno Nell'altro E quindi Mantenendoli indipendenti Però Mettendoli assieme Costruendo qualcosa Di armonico Che funziona Quindi dicevamo Constructor injection Poi sì Volendo c'è anche Setter injection C'è con un metodo Che fa da Metodo setter Quindi ci sono Diversi modi Per creare Il concetto Qual è? Creare questi Questi oggetti Non è una cosa facile Perché magari Potrei avere Una classe Che fa da Business logic Che ha bisogno Di un repository Per salvare Leggere dei dati Il quale ha bisogno Di una Interfaccia Un oggetto Che faccia da driver Per il database Che ho scelto Che potrebbe essere Diverso La mia classe Business Potrebbe poi Dipendere da Un servizio Di mailing Che a volte Dipende da un oggetto Che implemente Il protocollo Di mailing Da utilizzare Cioè potrei avere Una rete di oggetti Che è un po' Difficile da creare In questi casi Mi dovrebbe Venire in aiuto La libreria Spring 4D Che mi fornisce Quello che è Un container Un container Alla fine Che cos'è? È un oggetto Che è Appositamente Progettato Per creare Questi grafi Di oggetti In maniera Configurabile Quindi Questo è un po' Il suo Il suo vantaggio Però invece di Ragionare In astratto Facciamo che Ci scriviamo Un po' Di codice Così Magari Che queste Queste sono Tutte parti Dei cosiddetti Dei cosiddetti Principi solid E quindi Li troviamo Un pochino Dappertutto È del loose coupling C'è un mio video Del Delphi Day Ma dei webinar Fatti un paio D'anni fa Direi Sempre in Delphi Che comunque Spiegano un po' Tutte queste 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 cosucce In maniera Molto dettagliata E quindi Allora Cosa potremmo fare Intanto Andiamo a lanciare Il nostro Delphi Spero che la musica Non sia alta Perché io La sento un po' La sento un po' Altina Ecco Adesso vado Un po' meglio Quindi Tac Abbiamo Il nostro Il nostro Delphi Pronto all'uso Quindi 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 Quello che andrei A provare a fare È esattamente Questo Non so Se fare un'applicazione Console Ma si Dai Teniamola semplice Proviamo con un'applicazione Console Così Esaminiamo Intanto un po' Il Il concetto In sé E poi dopo Approfondiamo Come dire La nostra Dovrei trovare Ho cercato Qualche Esempietto Per così dire Un po' Carino Da utilizzare Però Non è che ne abbia Come dire Trovati Tantissimi Quindi qualcosa Che stampi Sto cercando Di vedere Se Trovo qualcosa Di meglio Rispetto a quello Che Che ho trovato In giro Perché Sono tutti Esempi Abbastanza Come dire Significativi Dal punto di vista Teorico Ma sono brutti Nel senso Che non hanno Non hanno Molto da Da spendere Come dire Dal punto di vista Del Della fantasy O Qualcosa di Pratico Qualcosa di Che abbia un minimo Di Che sia un minimo Interessante Da questo punto di vista Real world Example Beh C'è gestione utenti Sono un po' Classice Un pochino Però Potrebbe Potrebbe essere Un'idea Da un certo punto Di vista Questa potrebbe Essere un'idea Una cosa Potrebbe essere La gestione utenti Un'altra cosa Potrebbe essere Appunto L'invio L'invio Delle mail Oppure se avete Dei suggerimenti Non sempre Ben accetti Ma Io una volta Avevo fatto Qualcosa Con un Tipo Un robot E un display Per visualizzare Come dire Un po' I movimenti O fare delle cose Però si Non era Non era proprio L'ideale Avevo usato Anche L'esempio Della Vending machine Cioè La macchina Per gli snack Che potrebbe Potrebbe non essere Un cattivo Un cattivo Esempio Perché Aveva Come dire Due cose Carine Da utilizzare Una parte È il veicolare Dei messaggi All'utente E un'altra cosa Era il fatto Di poter Come dire Gestire Una sorta Di token Cioè Il token La chiavetta Che uso Per Come dire Prendere il caffè Cose di questo tipo C'è da dire Che Sì Forse andrebbe Un attimo Un attimo Articolato Per provarlo Con In realtà Potrebbe Potrebbe Essere Interessante Quindi Ci sono degli esempi Un po' più Come dire Un po' più Pepati Dal punto di vista Un servizio Di pagamento Quindi Potrebbe Esserci Un servizio Di mailing Di Come dire Piazzamento Degli ordini Ci sono un po' Di cose Che potrebbero Donarci utili Ma non sono Poi neanche Tantissime Quindi sono Un pochino E poi sono sempre Cose un pochino Business Un po' Con la natura Di scatole Quindi Allora Ma intanto Proviamo a fare qualcosa Intanto L'obiettivo È come dire Iniziare a sporcarci Le mani Quindi potremmo Far anche una cosa Molto semplice Ovvero Creare Il nostro Non so Un Una classe Che faccia Da gestore Delle risorse Umane Ok Qualcosa del genere Da cui Recuperare Dei dati Relativi A dei dipendenti E poi Trovare il modo Di caricarlo Da varie Da varie fonti Quindi costruirci Tanto poi Volendo Potremmo fare Una tabellina In O con SQLite O con qualcosa Quindi Partiamo Da questo progetto Gli diamo Una Una salvatina Una salvatina Così Lo chiamiamo Lo chiamiamo HR Human 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 Resources Orrendo Come nome Ma Questo Vorrebbe essere Proprio Un esempio Molto Molto Veloce Per Per fare Appunto Una Una prova Rapida Di quello Che Potremmo Realizzare Per vedere Soprattutto Anche un po Come funziona L'interfacciamento Con Spring 4D Bevo Un attimo Così Va un po Meglio Ok Quindi Fatemi Pensare Un attimo Potremmo Fare Delle Delle Interfacce Ad esempio Creare Intanto La struttura Dati Fare Una Unit Che Potremmo Chiamare HR Entities Quindi Con Delle Entità Che Potrebbero Essere Ad esempio Il nostro Impiegato Però Prometto Che Troverò Un esempio Molto Migliore Di questo Perché Non mi Piace Molto Facciamo Un record Per partire Via Così Siamo Siamo Anche Più Veloci Cosa Potremmo Metterci Qui Un po Di Potevamo Prenderlo Quasi Dalle Dall'esempio Di IORM Che avevamo Fatto L'altra Volta Ma Potremmo Metterci Intanto Un ID Anche Perché Queste Cose IORM Facciamo Nome Cognome Ci Mettiamo Department Name Poi Quanto Prendi Stipendio Boh Non Lo So Un Si Dai Un bel Salary Così Abbiamo La Nostra Entità Quindi Questa Può Essere Un'entità Con cui Noi Potremmo Avere A che Fare Quindi Il Concetto Della Dependency Injection In questo Caso Come Potremmo Realizzarlo Facendo Ad esempio Una Unit Quindi Di Tanto 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 Ad esempio Un Bo Manager Chiamiamolo Stavo inventando Di sana pianta Ad esempio Qui Potremmo Fare Un Employee Chiamiamoli Diamogli Un bel Prefisso Così Employee Manager No dai Facciamo Senza Employee Manager Ok Che invece È una Classe Che ha Un metodo Public Ad esempio Che Ci dà Tutti i dati Get all Employee Is Is Cioè Ci dà Un Un array Di Che tipo Di Di Entity Employee Quindi Ci dà Tutti i dati Di tutti I nostri Dipendenti Ecco Questo potrebbe essere Ad esempio Manager Vuol dire Gestisce In realtà Per i principi solid Il clean code Chiamarlo manager Non è Il Non è proprio Un nome Perché Manager Vuol dire Che gestisce Sì Ma gestisce Cosa vuol dire Che Non sarebbe Per il clean code È come product inf Product data Dentro uno stesso progetto Non si capisce bene Che cosa faccia Però Io In questo caso Io lo chiamo manager Nel senso che È proprio il manager Cioè Il Il responsabile Del Capo ufficio Dei Dipendenti Quindi È manager In quel senso Quindi Proprio Immaginando la persona Quindi Mi salvo così Mi salvo In In Corner Quindi C'è una funzione Che ci dà Tutti gli impiegati Ovviamente Quindi Ne deduciamo Che questa Sarà una classe Che Ad esempio Mi restituirà I dati Degli impiegati Magari Potremmo pensare Di metterci Un metodo Che Non so A un impiegato Aumenta Lo stipendio Magari Si potrebbe fare Che Se aumentiamo Lo stipendio Agli impiegato Oltre a salvare Lo stipendio Aggiornato Gli mandiamo Una notifica Quindi La notifica La manda Di per sé Il manager Cioè All'interno Di questo Employee Manager Che noi Gestiamo L'operazione Di Prendo il dato Lo salvo Quindi salvo Il nuovo stipendio E mando La notifica Quello che manca Perché questo Bisogna essere Chiari Non è che Non fa la cosa La cosa la fa Ma Non possiamo Implementarla Qui Cioè Non implementiamo In questa classe L'invio Della Della notifica Così come Un gestore Risorso Umano Di un'azienda Se deve Notificare Qualcosa Via posta A un impiegato Non va a casa A consegnargli La lettera Cioè Manda la mail Oppure Manda Manda appunto La busta La scrive La manda La affida A qualcuno E poi Lui saprà Che questa Verrà Recapitata Quindi il concetto È quello Cioè l'azione Avviene qui Però Avverrà Chiamando il metodo Di un altro oggetto Che noi dovremmo In qualche modo Passare Come dipendenza Lo stesso Direi Vale per Il salvataggio Dei dati Quindi Mandare Delle email Salvare Dei dati Questo è il gestore Degli impiegati Ad alto livello Quindi È quello che gestisce Tutte le operazioni Il fatto che debba Come dire Leggere E salvare Delle informazioni È una cosa Che dovrà fare Per poter Tenere Manutenere I dati Degli impiegati Ma questa è una cosa Che verrà chiamata Da questa classe Ma non verrà fatta Idealmente Da questa classe Ma verrà fatta Da una classe Correlata Quindi qui si pone Il primo problema E poi questo L'inversion of control Cioè Io una cosa La faccio Tramite te Quindi Ingaggio qualcun altro Che faccia la cosa Al posto mio E quindi inverto Di fatto Il flusso Del programma Chiamo qualcuno Che fa qualcosa Al posto mio Quindi anche questo Get all employee Vuol dire che Io vado Da Non so Sono amministratore delegato E dico Mi dici tutti i tuoi impiegati Il Il gestore del personale Non sarà Non è che Ce li ha memoria Andrà a consultare qualcosa Quindi andrà a interfacciarsi O con qualcosa Di informatico O comunque magari Con qualcun altro Capi uffici Cioè Delegherà qualcuno Per ottenere Queste Queste informazioni In Generalmente In questo tipo Di software Quello che Con cui abbiamo A che fare È un cosiddetto Repositori Cioè Get all employee Vuol dire Dammi tutti gli impiegati Li dobbiamo caricare Da uno storage Quindi un database Più comunemente Avremo Avremo quindi Il fatto che Questa classe Dovrà interagire Con qualcosa Che mi consente Di caricare dati Di tutti gli impiegati Di un impiegato Di salvare Le informazioni Aggiornate Di fare le operazioni Di immagazzinamento Dei dati Quindi qui Dovremmo già interagire Con un oggetto Che ci fornisca Queste informazioni Che potrebbero essere Incapsulate O sempre nell'oggetto Employee Nel record Employee Oppure magari In un altro record Che è parziale O è spezzettato Perché è legato Ad esempio Un database Che divide le informazioni Su più parti E quindi noi potremmo Restituire Gli stessi oggetti O un aggregato Qualcosa del genere Per comodità Usiamo gli stessi Quindi Cosa andiamo a fare Qui Event Sourcing Anche quello Sarebbe Un bel argomento Di cui parlare Tanto Benvenuto Perché mi segnala Che la prima volta Sarebbe un bel argomento Da trattare Event Sourcing Anche se Ha una certa complessità Ma non sarebbe male Effettivamente Parlarne Magari ce lo teniamo Per una Per una volta futura Siamo fermi Alla dependency injection Quindi Ancora Arriveremo Piano piano Anche su quello Quindi cosa facciamo Facciamo Facciamoci Qui ovviamente Semplifico Una unit Di Chiamiamola HR interfaces Chiamiamo Cioè Di interfacce Che devo parlarsi Di questo No Parliamo di Dependency Injection Chiaramente Sono tutti argomenti Molto Come dire Correlati Fra Fra di loro Stava parlando Di storage E quindi E quindi Diciamo Che una correlazione C'è Però Qui facciamo Le cose semplici Anzi Io al momento Non vorrei Neanche coinvolgere Un database Per il momento Però È un ottimo spunto Perché anche questo È un argomento Che È molto interessante Diviene molto interessante Soprattutto Ad oggi E ha molte Potenzialità Quindi potrebbe essere Interessante Vederlo In una live Proprio Dedicata Espressamente A quello Annetto Che Io Per scenari Con cui ho lavorato Eccetera L'ho usato Molto poco Però Ho presente Di cosa si tratta E la potenzialità Che potrebbe avere Ci sono alcune applicazioni Dove Effettivamente Potrebbe Risultare Molto utile Se non indispensabile In certi casi Quindi dipende Un po' Dal Tipo Quando si parla Ad oggi Molto di Blockchain L'event Sourcing È proprio Una Blockchain È quasi Un'implementazione Di event Sourcing Perché non Si cancella Nulla E da lì Si va Sempre avanti Ok Quindi Qui siamo Molto più Terra a terra Più semplici Al momento Quindi Torniamo Un attimo A noi Qui nel Manager Dobbiamo Interfacciarsi Con qualcosa Che è Un Repository Ovvero Qui lasciamo To do Chiedo Al repository Repository I dati Di tutti Gli impiegati Il repository Cos'è È un oggetto Che è preposto Al recupero Di dati Da uno storage Che potrebbe essere Database Ma potrebbe Anche essere Qualcosa di Fake Come poi Noi faremo E che un domani Potremmo sostituire Con un database Che a un certo punto Da database Potrebbe trasformarsi A un API REST Quindi potrebbe Assumere diverse forme Quello che Fa A tutti gli effetti È Consentirci Di leggere Scrivere I dati Dei nostri Impiegati Quindi Per chiedere Repository Noi Il repository Qui ce lo dobbiamo Far passare Essendo che È fondamentale Per L'employee manager Lavorare Con questo repository Dovremmo mettere Un constructor Ok Quindi dovremmo Dovremmo Farcelo passare Qui Tra i parametri Del nostro costruttore E ovviamente Salvarci il riferimento Quindi Repository O se vogliamo Perché potremmo Avvenne diversi Employee Repository Chiamiamolo Ovviamente Qui lascio Un attimo T Cioè lascio E Employee Repository Lascio ovviamente Un attimo Scoperto il tipo Perché su questo Dobbiamo fare un ragionamento Ovvero Dovremmo fare in modo Possibilmente Che non sia Una classe Perché la classe È un'implementazione Cioè Quando noi definiamo Che utilizziamo Una classe Quello che facciamo È legarci Indissolubilmente A quell'implementazione È ovvio che Se decidiamo Per una classe E la cambiamo Con un'altra Magari ritoccando Alcuni punti Veloci del codice Otteniamo Come dire Il Otteniamo Il passaggio Dall'uno all'altro Senza Delle grossi sforzi Però il nostro obiettivo Qui in realtà Qual è Quello di Renderci addirittura Indipendenti Da questo Ripository A me non interessa La classe Perché non mi interessa Come implementato Mi interessa Che abbia un metodo In grado di restituire I miei impiegati E quando lo chiamo Mi dia i dati Degli impiegati Come lo faccia Se usi Il povero Gabbiano O con un database O con una rest api Non mi interessa Quindi Quello che Come otteniamo Questo tipo di Astrazione Con un'interfaccia Ovvero Da qualche parte Interfaces Qui Faremo un type Lo chiameremo Employee Repository Interface Che avrà Un po' di metodi Ad esempio Uno di questi Sarà Get All Employee Is Grazie per il follow Kobe Dev Non so se fai streaming Anche tu Nel caso Vengo a Beh Questo in realtà Potrei saperlo Faccio Provo a fare Uno Shoutout Come si vuol dire Si parla di Forse no Però Ho fatto uno Shoutout Nel caso Avesse un canale Così vengo a seguire Che mi piace Seguire le cose Di sviluppo Mi piace anche Vedere quelli che giocano Io non gioco Ma Anche se Più volte Mi hanno cercato Di coinvolgere In un paio Di giochi Malsani Uno dei quali È veramente Malsano Sto pensando Di iniziare Ma ti dirò A me Secondo me È una bella cosa È utile Come dire A parte il fatto Di stringere un po' Di rapporti Soprattutto se Magari tratti O linguaggio Cose che non sono Come dire Trattate molto in giro È interessante È interessante Alla fine Quindi Poi ci sono Belle persone In generale Anche qui Sia sviluppatori Che non Ci sono dei canali Interessanti E quindi A me A me piace Tutto sommato Quindi Devo dire Non avrei mai pensato Avrei pensato Di stancarmi Subito Invece Tutto sommato Sto resistendo E quindi Dicevamo Così si Si infoltisce Il gruppo Dei developer Scalzeremo I gamer E alla fine Diventerà una piattaforma Di solo Tutti che programmano In live Quindi Qui abbiamo Definito Un'interfaccia Cioè stiamo Dicendo Che Il nostro Employee Repositori C'è una Iqua davanti Sarà Un'interfaccia Che definisce Un generico Repositori Cioè un deposito Qualcosa Che mi consente Di lavorare Con i dati Degli impiegati Quindi Questo Get all employees Andrà a fare Il caricamento E poi più o meno Quello che recupererò Da qui L'andrò a restituire Direttamente Dal mio Dal mio manager Quindi Generalmente Se mi viene chiesto La lista degli impiegati La recupero Da un tabulato E la restituisco Quindi Questa sì Che è la motivazione Eh sì Eh beh Ci provo Quindi Questo Perché usiamo Quest'interfaccia Perché a noi interessa L'interfaccia Come una specie Di contratto Che Che definisce Ciò che ci aspettiamo Faccia Un generico Repositori Senza però Interessarci Dell'implementazione Quindi la classe Che implementa Quell'interfaccia Potrà Reditare Da dove vuole Potrà Implementare Anche l'interfaccia Potrà fare Quello che vuole L'importante Che implementi Quell'interfaccia Abbia Almeno quel metodo Il resto Non ci interessa Quindi possiamo Aggiungere Qui abbiamo Il nostro Entities Possiamo aggiungere Anche questa unit Anche questa unit E usare Quel tipo I Employee Repositori Come Tipo Con cui ci Interfacciamo E con cui Ci facciamo Restituire L'elenco L'elenco Degli impiegati Che poi andremo Restituire Direttamente Al chiamante Quindi se Completiamo La classe E gli facciamo Aggiungere Il codice Il nostro Buon Delphi Ci ha aggiunto Adesso allargo Un po' Tanto Stiamo solo Stiamo solo Lavorando Col codice Ci ha aggiunto Il nostro Costruttore Qui ovviamente Andiamo a chiamare Parte che è un Generico Oggetto Quindi Ci andremo A salvare Un riferimento A repository Quindi nel momento In cui vogliamo Restituire Tutti gli impiegati Quello che andremo A fare È un Employee repository Get all employees Cioè Chiamiamo repository E restituiamo I dati Che ci fa Che ci fa Ritornare Ovviamente Non sarà Sempre così Easy Ma Ovviamente Qui Un'altra cosa Che dovremmo Controllare È Creare Delle cosiddette Guard condition Ovvero Il nostro Employee repository Se non è assegnato Dovremmo Exception Ah ci manca Qualche classe Uses System Usiamo Argument Nel Exception Ecco Così Abbiamo Employee Repository Is Nel Nel O nal Come vogliamo Qui ci vuole Il name Name of Tanto Agognato Da Il Buon Christian Che ogni tanto È in live Cioè Un costrutto Che ci faccia Passare Come parametro Questo parametro E generi una stringa Con il nome del parametro In modo da non doverlo Se rifattorizziamo Da non doverlo cambiare Quindi qui controlliamo anche Ovviamente che venga passato Un riferimento valido Perché questo È una dipendenza Che per noi è vitale Quindi sta nel costruttore E va verificata Injection Ovviamente Dependency Perché viene Iniettata nel costruttore Ovvero Per poter funzionare Questo oggetto Ha bisogno di Questo oggetto Quindi Chi andrà a creare Questo oggetto Doverrà crearne Anche uno di questo tipo Che a sua volta Per funzionare Potrebbe avere bisogno Di altri tipi di oggetti E quindi Da qui poi La complessità Di gestire Non indifferente Di gestire Questo grafo Che passa gestito Appunto manualmente Oppure Come proveremo noi Usando la libreria Spring4D Che ci viene in aiuto Per questo Questo motivo Quindi Noi potremmo dire Siamo a posto No In realtà Perché se noi andiamo L'obiettivo Che avremo Sarà nella nostra Applicazione console Qui Mettiamo Insert code Qui Cosa dovremmo fare Dovremmo dire Creiamo il nostro Employee manager Ok Che è di tipo Team Employee manager Create Qui ovviamente Al momento Non abbiamo Un repository Da passare Perché il repository Ce lo dobbiamo andare A creare Quindi in qualche modo Dovremmo intanto Implementarne uno E poi Passarlo come Dipendenza La cosa utile La cosa utile Da dependency injection È anche questa Mettiamo che non abbiamo Voglia di coinvolgere Un DB Ma vogliamo comunque Fare un'implementazione E non la vogliamo Cambiare Un domani Che abbiamo Un Un DB A disposizione Anche questo è importante Cioè vogliamo Scrivere Il codice Che funzioni Facendo vedere Dei dati Che Inizialmente Possono provenire Dalla memoria Ad essere autogenerati Un domani Potrebbero arrivare Da un database O da un API REST Quindi il concetto Qual è Io voglio fare Un'implementazione Che vada bene Comunque E magari anche Testarla Quindi non entriamo Nel marito al momento Degli unit test Però Non sarebbe Una cattiva cosa In quel caso Però la vorrei Testare Mostrando dati Di impiegati In modo che un domani Che sarà disponibile Il database Di cui magari Si potrebbe occupare Qualcun altro E quindi La mia interfaccia Quella che abbiamo fatto Queste employee repository E queste entità Possono essere utili Per fare che cosa Per Come contratto Per capire Quali sono le operazioni Da implementare Quali sono le operazioni Che una parte Si aspetta E che l'altra faccia E che magari L'altro sviluppatore Sta Creando In parallelo Implementando In parallelo E nel frattempo Però Avendo un'interfaccia Come Punto di contatto Nulla mi vieta Di implementare Una classe Che magari Crei questi dati In maniera fake Ad esempio Non sarebbe Nulla di Trascendentale E nel momento In cui è pronta La classe Che invece Magari Dialoga col database Togliere la prima E sostituirla Con la seconda Questo sarebbe L'ideale Quindi Il fatto di usare Dependency Ingec Di strutturare Un progetto In questo modo Fornisce tutti Questi vantaggi Interessanti E le mie Classi fake Possono essere Usate Anche per Creare dei test Automatizzati Quindi Sostituire Delle implementazioni Che però Non influiscono Sul funzionamento Della classe Che voglio testare In modo da poterla Testare In isolamento E poi ovviamente Ci sono L'integration Test E quant'altro Quindi Mi faccio Una bella Unit Ok Questa potremmo Chiamarla HR Repositories Ok Facciamo Beh tanto Ne facciamo Uno Quindi qui Delle implementazioni Repositories Chiamiamoli Fake Cioè Creiamo Un Un E-space Dove mettere Questi repository Che si distinguono Però da quelli Reali O comunque Sono La famiglia Di tipo fake Quindi Per noi Sta a indicare Che sono finti Nel senso Che sarà Un'implementazione Del tutto Demo Fatta apposta Per testare Il codice Però Avremo Finalmente Qualcosa Che possa Essere Un oggetto Reale Da passare Al nostro Employee Manager Perché Employee Manager Accetta Un'interfaccia C'è solo L'interfaccia Utilissima Per i Mocking E Integration Test Esattamente Quindi Quello È proprio Il suo Scopo Al netto Di Non usare Anche Dei Framework Per il Mocking Però Molto Spesso Si usano Anche Delle Classi Fatte a mano Esistono Anche Dei Framework Per Fare In modo Di Partare Da L'interfaccia Creare Un'implementazione E Programmarlo Tipo Robot Quindi Avere Una Classe Vuota E Costruire Un'implementazione Dicendogli Che Quando Viene Chiamato Un Metodo Deve Rispondere In Un Certo Modo E Quindi Evitiamo Praticamente Di Scrivere Tante Implementazioni Fake Per Creare I Nostri Fake In Mock In Questo Caso E Fare I Vari Test Però Ci Utilizza Ovviamente Anche Questo Approccio Quindi Ci Importiamo Tutte Due Le Unit Entities E Interfaces Perché Abbiamo Bisogno Del Tipo Di Dato E Dell' Interfaccia E Qui Ci Facciamo Il Nostro T Chiamiamolo Beh Chiamiamolo Fake Employee Repository Forse Beh Va bene Così Quindi Questa Sarà Una Classe Che Implementa Nel Nostro Caso In Delphi Abbiamo Una Classe Base Interface Object Che Ha Bisogno Di Che Quella Che Possiamo Utilizzare Per Tutti Le Classi Che Fanno Riferimento A Interfacce Perché Le Interfacce Sono Reference Counted E Questo È Un Oggetto Che Aggiunge Quella Parte Di Implementazione Cioè Non Abbiamo La Gestione Della Memoria Da Attuare Su Oggetti Che Fanno Riferimento A Interfacce Questa È La Nostra Classe Qui Ovviamente Mi va Un Errore Perché Mi Dice Missing Implementation Of Get All Employee Cioè Quello Che Manca È Il Metodo Che Dobbiamo Implementare Per Per Dire Che Noi Stiamo Implementando Quell' Interfaccia Mi Ha Formattato Il Codice Ok Qui Ha messo Un Space Completo Ma Non Ce N'è Bisogno Va Bene Anche Scritta Così Sintetica Quindi Questo È Il Metodo Che Deve Esserci Per Poter Dire Che Noi Implementiamo Quest' Interfaccia L'interfaccia Richiede Questo Metodo Se Non C'è Ovviamente Ci Segna L'errore Ora Ci Segna L'errore Ovviamente Perché Non È Implementato Però Facciamo Il Nel Nel Senso Che Ci Facciamo Una Bella Lista Di Oggetti Potremmo Usare Ad Esempio System Generics Collection Fare Una Bella Object List Che Però Non funziona Quei Record Se Non Ricordo Male Beh No Non Abbiamo Bisogno Adesso Che Ci Penso Facciamo Set Length Di Result Che È Un Array Creiamo No Dieci Sono Tanti Via Mettiamone Meno Facciamone Cinque Poi Qui Ci vorrebbe Un Generatore Di Dati Casuali Che Non Sarebbe Male Inventiamoci Un Po Di Un Po Di Roba Mario Questo Mario Bianchi Quello Di Mike Buongiorno Department Name Facciamo Questo È Il Cda Non So Se Metterli Salario Cinquemila E Via Questo Riccone Riccone Oltre Ogni Misura Uno Due Tre Quattro Poi Cambieremo Qualche Dato Ok Quindi Mettiamo Paolo Rossi Development Anzi R And Che Fa Più Figo Qui Ci Mettiamo 2000 Qui Abbiamo Bo Manorossi Antonio Giuseppe Verdi Giustamente Che Non Po Non Po Mancare Questo Reparto Music No Dai Mettiamolo In Marketing Così E Questo Prende 1400 Poi Abbiamo Altri Nomi Diciamo Pietro Gamba Di Legno Che Fa Ufficio Ufficio Sinistri Molto Molto Dobbiamo Cambiare L'ID Quindi Ok ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 Qui Mettiamo 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 Inventare L'ultimo Metto Io Come Ultimo Reparto Pulizie Ah Dai Diamo Mettiamo Mettiamo 1200 Ci arriviamo Su Così Cambiati Cambiati Sì Giusto Diciamo Che a meno In questo caso Non era fondamentale Però Che poi Che poi Questo Get Employee In realtà Noi potremmo Siccome potrebbe Tornarci Utile Anche in un Secondo Momento Potremmo Prevederlo Nel Costruttore Cioè Fare Una cosa Del genere No Chiamiamolo Usiamo Sempre Dei termini Certi Cioè Potremmo Creare Una volta Sola E usarlo Anche Per Tanti Altri Utilizzi E Scopi Quindi In fase Di Creazione Tutta questa Roba Qui L'andiamo A posizionare Qui Poi Aggiusto Tutto Perché poi Potremmo avere Anche un Get By D Potremmo avere Diverse cose Allora Non Result Ma F Employees Ok Questo è Corretto Qui Restituiamo Tutto Per il momento Però poi Avremo Magari Un Get By D Avremo Un Delete Non lo So Vedremo Un attimo Come Come Gestircelo Forse Era meglio Fare Degli Oggetti Non lo So Fa lo Stesso Per il Momento Non è Poi Importante Questa Cosa Value Assigned Ok Quindi Allo Stato Attuale Noi Cosa Potremmo Cosa Potremmo Dire Che Abbiamo Messo Anche Un'implementazione Che Potremmo Utilizzare Quindi Una Cosa Che Potremmo Andare A Creare È Una Unit Che Potremmo Chiamare HR Graph Cioè Dove Dovremmo Andare A creare Questi Oggetti Cioè Il concetto È che Io vorrei Creare Un'istanza Anzi Facciamo Facciamone un attimo A meno Lasciamo un attimo Lì Che forse Non ci serve Perché Poi Vorrei Sfruttare La libreria Quindi Quello Che qui Dovremmo Fare È Creare Un Employee Repository Ok Quindi Creando Questa Classe Concreta E Poi Andando A Passarla Qui Dentro Come Dipendenza E A questo Punto Per Completato Il nostro Grafo Ovviamente Anche L'impoli Manager Potrebbe Essere Una Classe Potrebbe Avere La sua Interfaccia Questo Non lo Vieta Nessuno E Qui Dobbiamo Stare Attenti A Non Fare Una Free Perché Abbiamo Un' Interfaccia Quindi Questo Var Io Andrei Anche Esatto A Specializzare Quindi Mettendolo In Questo Modo Depository Create Di Faccia Lo Passiamo E Cosa Andiamo A fare Andiamo A fare Un For Ciclo For Var Employee In Employee Manager Punto Get All Employee Facciamo Un Write Line Dovremmo Fare Una Format Un Formato Del Nostro Employee Però Magari Facciamolo Dai Tanto Per Quello Che Per Quello Che Ci Costa Mettiamo L'id Mettiamo L'id Davanti Mettiamo Il nome Mettiamo Il Cognome Mettiamo Il Dipartimento Una Chiocciola Via Dai Così E Poi Ci Mettiamo Oddio Il Currency Il Currency Ha il suo Formato Non è come Il float Insomma Lo vado A rivedere Perché Money Bene Perfetto Quindi Abbiamo Un percentuale M Per La moneta Poi Questa Logica Me la Sposto Quindi Stampiamo Employee Id Poi Stampiamo Employee First Name Employee Last Name Poi Stampiamo Il Department E Poi Stampiamo Lo Stipendio Compilare Compila Quindi Va Non si dice Aggiungiamoci Anche Un Report Memory Leaks Su Shutdown Così Controlliamo Che Non vada Storto Qualcosa Ok Quindi Ci siamo Che Potremmo Fare Che potremmo Fare Potremmo Lanciarle Vedere Cosa Succede Intanto E Quindi Magari Mettendoci Un Simpatico Una Simpatica Riga Di Comando Così Forse Vediamo Qualcosa Ok Si direbbe Arnetto Della valuta Che non L'ho Indicata E Quindi Di Rilansi Sono Abituato Che Visual Studio Ce lo mette In automatico Sulla Realismo Se la lancia In debug Non ce lo mette Quindi Anche Sempre Un po' Quindi Direi Che stampa Tutto Correttamente Ma anche Il simbolo Del Currency Però Vabbè Dai Siccome Siamo Dei Pignoli Ce lo Andiamo A mettere Non so Come Non so Come Si Come Si Mette Datemi Un aiuto Cioè Non 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 Voi Ma Intendo Forse Me lo dice In Cur2 String Vediamo Cur2 Str Sorry No Perché Questo Usa Giustamente I format Settings Non Mi ricordo Come si Mette Il simbolino Dell'euro Ma Fa lo stesso Va bene Così Dopo Lo vado A cercare Quindi Allo stato Attuale Il In Debug Non mi Riporta Nulla Giusto Si Eravamo In Debug Anche Prima Quindi Dovremmo Dovremmo Essere Ok E' Chiaro Che Sarebbe Interessante Quindi Che potere Ci dà Questo Questo Simpatico Giochino Di andare Che Se un domani Qualcuno Implementa Un Repositori Reale Noi Togliamo Si E l'euro E che Non so Dove Si inserisce Di preciso Sullo Specificatore Di formato Che Che c'è qui Adesso Lo vado A cercare In giro Mi vado A vedere Dunque Delphi Employee Format Money Symbol Currency Format Ah forse Original Settings Ma no Dovrebbe Essere Currency String Forse Qui c'è Un Usa Il float Allora Percentuale M Ok A meno Che Non sia A meno Che Non abbia Sbagliato Qualcosa Io Con Builder Non lo Metta Sul simul Della Valuta In teoria Sì Però Mi scrive Dei gran Punti Di domanda A meno Che Questo Non sia Un Unicode Fatto Male Ma Magari Ci vuole Un Settings Format Settings Create Currency Format String Vediamo Come viene Creato Currency String 00 A4 So Provo Così Comunque Cos'è L'ultimo Parametro No Si Si Incazzerà A morte Secondo No Invece No Se ne Frega Proprio Separator 1000 Va bene Non è Comunque Fondamentale Eh ma Se lo metto Nella stringa Dopo Lo stipendio Mi Mi fa Sì Un punto Di domanda Che Lo posso Mettere Anche Così Però Poi Mi viene Stampato In In questo No Un problema Di Unicode Qua Te lo dico Io Però Strano La console Forse Perché sto Usando Il terminal O qualcosa Del genere Ma Dovrebbe Già Essere Unicode Si Si No Ma E Che Qui Lo voglio Formattato Con Questo Ma È Un problema Di Unicode Abbiamo Visto Quindi C'è Qualcos'altro Che O C'è Un Fonte Che Non Lo Supporta Aspetta Che Provo A fare Una Cosa Predefinite Un po' Strano Che Non Mi Supporti I Cascadia Code Non È Che Sia Proviamo Il lucido Console Se Cambia Qualcosa Ma Cambio Il Fonte Ma Non Mi Cambia Il Risultato Ma Questo È Un Po Strano Però Dovrebbe Essere Nativamente Unicode Quindi Opzioni Multilingue Latino Layout Colori Terminale Posso Cambiare Anche La Proprietà Aspetta Che Prova A Prendere Terminal Terminale Di Windows Modern Modernissimo Però Ne È Cambiato Un Tubazzo Quindi Ma Mi Sa Che Sia L'output Questo Dovrebbe Essere Un Problema Noto Secondo Me Perché Delty Console Output Unicode Creating An International Console Vedo che Sono in Tanti Avere Il nostro Problema C'è Una Code Page Forse Anche Nelle Proprietà Come Ma Questa Roba Da Dove Viene Scusate Da Windows Ok Da Qui Viene Ok Proviamola Così Voilà Perfetto Adesso C'è L'euro C'era Era Sono Sono Molto Più Contento Com'è Però Quindi Per Tornare Che Il Terminale Non è Il Massimo Dello Speed Per Queste Cose Dammi Il Prompt Dei Comandi Immagino Che Se Lancio Il CMD Adesso Parta Sempre Quello Giusto Come Lo Ricambio Nel Default Nei Settings Default Terminal Application Windows Console Host Save Ok Chiudi Tutto Spegni Tutto Ok Adesso Siamo In Adesso Siamo In Bolla Quindi Pensa Su Cosa Ci Stiamo Rambiccando Però C'è 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 Code Page Da Impostare Che Abilita I Caratteri In Questo Caso Probabilmente Unicode E Quindi Buono Sapersi Mi farà Un Approfondimento Grazie Al Mitico Dottor Bob Che Come Sempre Si Risolve La La Situazione Infatti Vedo Anche Qui Ci sono Anche Delle Costanti Che Potrebbero Essere Più Belle Da Usare Che UTF 8 Che Immagino Sarà Uguale Esatto Ok Però Un po' Più Bella Da Leggere Quindi Buona Sapersi Questa Cosa Qui Cioè Non mi era Capitato Ancora E Quindi Ottimo Perfetto Così Ne ho imparata Una nuova Dicevamo Usare Spring 4D Perché Poi La fine L'obiettivo Era Questo E Fargli Fare Queste Cose In Automatico Ovvero Qui Non è Molto Bello Avere Questa Dichiarazione Pensiamo A Un Grafo Più Complesso Ovvero Dove Qui Andiamo A Creare Un DB Repositori Che Magari Ha Bisogno Di Un Altro Non Si Finisce Mai Di Imparare Esattamente Nonostante Più Di 20 Anni Di Onorato Servizio Anzi Disonorato Servizio Potremmo Avere Un Grafo Tra Altro Ovviamente L'employee Manager Ad 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 Esempio A Un Certo Employee ID Ok Const New Salary Di Tipo Moneta E La Cosa Interessante Da Fare Qui Dentro Sarebbe Aggiornare I Dati Dell'employee Dell'impiegato Del Sottoposto Chiamiamolo Ma Anche Inviargli Una Notifica Quindi Inviargli Una Notifica Vuol dire Ad esempio Una Mail O Qualcosa Del Genere Quindi Potremmo Aggiungere Anche Qui Un Campo Con L'email Di Tipo String E Poi Nel Nostro Vabbè Qui Me La Me La La Risolvo Mario Punto Bianchi Chiocciola Acme Spa Punto Com La Famosa L'azienda Di Willy Coyote Quindi Aggiungiamo Questo Campo Fake Correggiamo Un Attimo I Dati Giusto Per Quindi Questo Fa Capire Che Il Grafo Potrebbe Anche Diventare Molto 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 Complesso Da Fare Quindi Mettiamo Qui Un Paolo Rossi Mario Bianchi Paolo Rossi Tanto Poi Non è che Gliela Mandiamo Davvero Però Questo Vuol dire Che Tra Interfaccia Avremo Intanto Avremo Qui N Repository Quindi Ne avremo N Diversi Per Ogni Entità Oppure Potremmo Avere Un'interfaccia Unica Che Fa Da Repository Per Tutto E Che Lascia Generico Questo Dipende Un po' Dal Dal Che Poi Dall Access Layer Che Uno Vuole Usare Quindi Uno Potrebbe Avere Un Repository Che Gestisce Tutto Questo In Maniera Generica E Che Lavora In Maniera Dinamica Su Tipi Diversi Di Strutture Oppure Se Per Ogni Elemento Abbiamo Un Repository Come Per L'employee Ogni Elemento Di Questo Sistema Avrà Il Proprio Repository Non Facciamo Un I Repository Con Tutti I Metodi Perché Diventerebbe Violerebbe L'interface Egregation Principle Quindi Faccio Riferimento A Lezione Solid Principle Cioè Sarebbe Un'interfaccia Che Richiederebbe A Qualsiasi Classe Di Implementare Un Sacco Di Metodi Mentre Magari Cioè Un'interfaccia Troppo Grande Ha Troppi Requisiti Un'altra Cosa Che Però Avremo Sarà Il Notifier Oppure Communicator Oppure Message Notifier Non So Qualcosa Che Vada A Mandare Delle Comunicazioni Al Nostro Ai Nostri Impiegati O Virtualmente Poi A Chiunque Perché Sarà Qualcosa Che Avrà Un Metodo Send Che Prenderà Un Message Ok Che Sarà Di Tipo T Message Oppure T Notification Che Ne So T Message Lasciamo Che Non Vorrei Si Confondesse Con Altri Message Che Abbiamo Nel Sistema Oppure Communicator Send Const E Communication T Communication Comunicazione Così Più generico Di così Si muore Ovviamente Questa Non esiste Però Diventerà A sua volta Parte Communication Del nostro Sistema Avrà Avrà Sender Name Di tipo String Avrà Un Recipient Name O Un Se vogliamo To name O to list Recipient list C'è la lista Dei destinatari HHH Quindi Questo È un po' Il 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 Vare Le varie cose Che possiamo Andarci ad aggiungere Questo Giusto Perché Compili Ma Non lo Vado A Implementare Però In realtà Potrei Fare Un Fake Quindi Avere Qui Un HR Communicators Fake Ok Quindi Creare Il mio Comunicatore Fake Di nuovo Fare Riferimento Sempre Le solite Unit E poi Metterci Dentro Type T Fake Communicator Diciamo Che adesso Non mi interessa Implementarlo Quindi Questo è Un modo Per avere Anche Questa Parte I Communicator Si arrabbierà Perché Ovviamente Devo Metterci Anche Questo Metodo Quindi Io ce Lo metto Però Da buon Ecco Questo è Proprio Uno Stub Per Di Unit Testing Cioè C'è Il Metodo Ma Non Faccio Do Nothing In Questo Caso Non Faccio Nulla Ma Magari Un Domani Ne Avrò Uno Che Fa Qualcosa Ecco Qui Magari Potremmo Sperimentare Che Il Nostro Manager Potrebbe Avere Un Communicator Tra I Riferimenti Quindi Communicator Che Potremmo Passare Ad Dipendenza Facoltativa O Qualcosa Del Genere Quindi Però Adesso Per Comodità Facciamo Che Lo Passiamo Nel Costruttore Quindi Vorrà Dire Che Saremo In Questa Situazione Avremo Un Communicator Ok Quindi Questo È Da Aggiungere Anche Questa Create È Da Salvare If Not Signed Communicator Ci Mettiamo Communicator Snil E Poi Ce Lo Salviamo Ok Quindi Da Questo Momento Possiamo Comunicare Quindi Qui Faremo Un Qualcosa Del Tipo F Employee Repository Update Salary Oppure Faremo Una Get Un Salvataggio Qualcosa Del Genere Quindi Diciamo Che Per Il Momento Questo Lo Lasciamo Un Attimo Come Da Implementare E Inviare Una Notifica Faremo Communicator Send Quindi Lo Facciamo Da Qui Ma Ovviamente Le Ci Ci Metteremo Sender Name Employee Manager Recipient list Uguale A Employee La Mail Delle Employee Anche Qui Ovviamente Ci Vanno To Do Ci Manca Solo Ci Manca Il Testo Del Messaggio Text O Subject Oggetto E Message Oppure Text Body Body Così Dà l'idea Di Quello Che Dove Eravamo Qui L Communication Body Hai avuto Un aumento Di Stipendio Il Nuovo Stipendio E Al momento Lasciamo Questo E Quindi Gli Mandiamo Anche L'avviso Quindi Questo È Uno Di Quelli Che Si Vorrebbero Ricevere In Compatible Types Esatto Adesso Dobbiamo Però Qui Manca Una Dipendenza Quindi Questa Va In Qualche Modo Quindi Dobbiamo Fare Il Nostro Communicator Di Tipo I Communicator Inizializzato Con T Fake Come L'abbiamo Chiamato Di Fake Communicator Create Grazie Prego E qui Ovviamente C'è da Passarlo Mettiamo Che Questo Vada Via Mail E Abbia Bisogno Di Sue Dipendenze E Questo Anche Perché Magari Usa Una Connection Di Un'altra Libreria Cioè Costruire Questo Grafo Potrebbe Essere Una Cosa Abbastanza Complicata In In Teoria Però C'è Ci dovrebbe Venire In Aiuto Le Funzionalità Di Spring 4D Aiuto Magari Bevo Un attimo In che Modo Dandoci Un Qualcosa Che In Grado Di Produrre Automaticamente Inizializzare Queste Istanze Basandosi Semplicemente Su Una Configurazione Attenzione Che Qui Non Si Tratta Solo Di Esatto Esattamente Bisogna Seguire Quello Che Dice Quello Che Dice Il Buon Aiuto Steve Balmer Quello Che Bisogna Chiaramente Tenere Presente E Che Questi Oggetti Potrebbero Essere Tutti Creati In Questo Caso Li Sto Creando All'avvio Del Sistema Ma Magari Potrebbe Essere Bisogna Di Un Employee Manager In Qualciasi Momento L'employee Manager Potrebbe Dover Utilizzare Un Repository Diverso Per Ogni Operazione Mentre Lo Stesso Comunicator Per Tutte Le Operazioni Di Comunicazione Cioè Noto Sistema Potrebbe Avere Questa Necessità Che Il Comunicator Sia Un Singleton Ad Esempio Mentre Che Il Repositore Sia Transient Perché Magari Il Singleton Il Comunicatore È Thread Safe Può Sia Usato Da Più Thread Mentre Il Repositore Ne Connessione A DB Ogni Thread Dovrebbe Avere La Sua E Anche Il Manager Potrebbe Essere Singleton Oppure Per Thread Cioè Noi Dobbiamo Creare Degli Oggetti Che Fanno Da Dipendenza Verso Gli Oggetti Il Fatto Che Però Questi Oggetti Vengano Creati Ogni Volta Che È Necessario Ogni Volta Che È Necessario Per Thread Oppure Una Sola Volta E Venga Utilizzata Sempre Quell' Istanza Sono Una Serie Di Regole Questa Necessità Di Creare Questi Oggetti E Il Modo In cui Vengono Gestiti Perché Se Dobbiamo Creare Un Manager Per Ogni Thread Vuol dire Che Ci sarà Un Oggetto Che Noi Chiederemo Il Manager Il Manager Dove Essere Creato Passando Queste Dipendenze Che Dovranno Essere Recuperate Quindi Questa Se Un Singleton Vuol dire Che L'oggetto Se Non Esiste Andrà Creato E Usato Sempre Lo Stesso Se Invece E Quindi Le Successive Chiamate Se Sono Da Un Thread Diverso Dovranno Creare Un Nuvo Manager Ma Utilizzare Lo Stesso Communicator Ecco Che La Factory Diventa Un Pochino Diventa Un Pochino Complicata Da Gestire Quindi In Questo Caso Avere Un Tool Che Ci Viene In Aiuto E Sacro Santo Come Come Facciamo Allora Possiamo Usare Spring For Delphi Con Un Oggetto Che Si Chiama Container Quindi Generalmente Ci Vengono In Aiuto Per Queste Esigenze Degli Oggetti Che Si Chiamano Container Perché Il Nome Container Sono Dei Generatori Di Stanze Di Oggetti Sono Dei Container Perché Seconda Della Politica Che Scegliamo Di Utilizzare Nella Creazione Degli Oggetti E Di Tutte Le Oro Dipendenze Ovviamente Sempre C'è Sempre Questo Come dire Un requisito Di Partenza Questi Oggetti Possono Anche Fare Da Contenitori Mettiamo Che Il Communicator Deve Sere Un Singleton Quando Noi Criamo Un' Istanza Del Manager Questo Strumento Dovrà Sapere Che Per Poter Creare Il Manager Dovrà Creare Un Communicator Ovvero Sarà Configurato Per Riuscire A Colmare La Dipendenza Di Questo High Communicator Che Viene Richiesto Da Questa Create Sapendo Qual è La Classe Che Dovrà Creare Innanzitutto E Qual è La Politica Con Cui Dovrà Gestire Quell'istanza Cioè La Crea La Butta Via Oppure La Riusa Per Ogni Thread Ne Crea Una Sola È Chiaro Che Se Ne Abbiamo Più Di Una Diciamo Abbiamo Un Riuso Per Thread O Addirittura Un Singleton Vuol dire Che Quella Istanza Dovrà Essere Creata Ma Anche Memorizzata Da Qualche Parte Questo Vuol dire Che Il container Fa Di Questi Oggetti Un'altra Cosa Che Il container Ha Al Suo Interno È La Configurazione Che Gli Consente Di Istanziare Nel Modo Corretto Questi Oggetti Quindi È Una Macchina Totalmente Programmabile A questo Scopo Per Realizzare A tutti Gli Effetti Come Diceva Qualcuno Poco Fa Quella Che È Una Factory Però È Una Factory Dinamica Configurabile E Scritta Ed È Semplicemente Da Istruire Quindi Quello È L'unico È Il Vantaggio Quindi Se Noi Andiamo A Cercarci Da Qualche Parte Qualcosa Su Dependency Injection Vediamo Se Troviamo Un po Di Documentazione Come Abbiamo Fatto L'altra Volta C'è Anche Un Vabbè A parte Un Video Youtube C'è Anche Un Un Libro Di Nicodge Che Spiega Tutto Sulla Dependency Injection E Quindi A maggior Ragione Link To The Book Link To The Code Ok Invece Repository Not Found Ok Ho Già Capito Che Qui Siamo Fregati Ok Poi Qua C'è Link Al Libro Quanto Meno Questo Il Libro Quindi Se Qualcuno Interessa Però Viene Distribuito Anche Da Embarcadero In Questi Giorni L'ho Visto Girare Un' Offerta Speciale L'avevo Già Preso Suo Tempo Ma Vediamo Se Troviamo Proprio Qualche Esempio Esempio Di Codice Che Ci Faccio Un Po Da Spunto Steven Glien Che Appunto È Come Dire Il Maintainer Del Qui Ci Sono Un Po Di Cose Qui Parlò S Sharp Probabilmente Qui Si Si Parla Di Inject Attribute Esatto Esatto Un'attenzione Anche Degli Antipattern Tipo Service Locator Ovvero Dei Tipi Di Utilizzi Che Non Andrebbero Fatti Stavo Guardando Se C'era Qualche Blog Post Pronto All'uso Lazy Initialization Ecco Qui Si Utilizza A Iniziare Un Pochino Di Home Controller Ci Sono Un Po' Di Qui Però Si Parla Qui C'è Una Java Quindi Un'altra Cosa Ancora Sulla Pagina Ufficiale Non c'è Nulla Che Forse Era il Primo Posto Da Cercare Effettivamente Sulla Documentazione Andiamo A Vedere La Wiki Ok Dependence Injection Container Non sono Sicuro Di Aver Cliccato Giusto Ah Perché Mi ha Creato Il Menu Subito Dopo Ok C'è Questo Container Register Type Implements Perfetto Ci Quindi Qui Ci Viene A Spiegare Un Po Tutte Le Cose Ovviamente Dovremmo Avere Un Attimo Un Po Il Tempo Di Sperimentare Un Po Tutto Però Quindi L'obiettivo È Ovviamente Togliere Questa Roba Qui Cioè Quindi Queste Nostre E Configurare Configurare Il Container Per La Depends Injection Questo È Un Po Il Nostro Obiettivo Guardiamo Un Attimo In Space Delle Classi C'è La Reference Completa Forse Online Non C'è L'altra Volta Abbiamo Trovato Questo Forse Non Era Qui Forse Dove Era Come No Qui C'è Repositori Abbiamo Trovato Anche Però La Documentazione La Reference Proprio Intera 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 Mi Sembra Intera Non è Qui Adesso La Pescheremo Quindi Qui Dobbiamo Andare A Mettere Container E Iniziare A Configurarlo Ovviamente Per Farglielo Vedere Dobbiamo Importarci Le Unity Spring For Delphi Quindi Mi Aspetto Di Avere Container Builder Ok Non so Se è Sufficiente Non mi Trova Questa Unit Ok Andiamo A Vedere Il Sorgente E Eventualmente Gli Esempi Così Code Public Abbiamo Spring For D Sample Source Ma Mi Sembra Che Avrassimo Anche Una Sorta Di Di Help In Linea Però Ho Questo Samples Ok Intro To Dependence Injection Advantage Ecco I demo Ci sono Dei Dei Demo Anche Validi Che Potremmo Vedere E Quindi Ho Sbagliato Vabbè Tanto Poi Order Processing Order Processor Processor Order Ah ok Ma qui Non c'è Non c'è Traccia Del Move to Interface Use Container Ok C'è proprio Un discorso Introduttivo Totale Dependence Injection E poi c'è il passaggio A tutti gli effetti All'uso Del Del container Quindi avete Tutti i passaggi Graduali Spring Container Ok Si chiama la unit Giustamente Perfetto Container Punto Register Type Quindi qui E' dove si E' questa L'istruzione Con cui Noi possiamo Registrare I nostri Tipi All'interno Del container Custom Constructor Field Injection Forse Dobbiamo E' meglio Dare un'occhiata Prima A queste Unit Però Più che Altro Ad esempio Registriamo Questa Vediamo Com'è che Non mi trova Le unit Eppure L'avevamo Installata Forse Non abbiamo Messo Tutti I library Part Andiamo a Controllare Che È del tutto Possibile Che sia Successo Spring 4D No Qui dovremmo Avere Tutto Forse Forse Non abbiamo Tutto Spring Container No Abbiamo Spring Container Lo Spring Container Ce l'abbiamo Quindi Perché Non mi Vedi Ok Hanno Fatto Qualche Cambiamento Rispetto Proviamo A crearcelo Che comunque È sempre Una buona Idea C'è Probabilmente Un default O qualcosa Del genere Di solito La prassi E fornirlo Però In questo Caso Oh Qualcosa Diciamo Va già Un po' Meglio Quindi Register Type Implement I Comunicator Perfetto Quindi Qui Iniziamo A registrare I nostri Tipi Poi Vedete Che Potete Fare Delle Factory Potete Fare Varie Register Sono Questi Decorator Quindi In realtà La gamma Di cose Che Questo Può Fare Sono Abbastanza Ampie Qui Abbiamo Registrato Un Tipo Specifico Come Implementazione Di I Communicator Ovviamente Se qui Cambio Classe Dovrebbe Segnalarmi Un errore Forse Sulla riga Se fa un Controllo Probabilmente No Perché Non c'è Un controllo Tipizzato Su quello Ma dovrebbe Ok Quindi Gli sto Dicendo Questi Register Type Vanno A Comporre Un Registro Dove Fondamentalmente Quello Che Noi Andiamo A Fare E Dire Ho Sbagliato Fake Employee Repository Implement Non Stiamo Facendo Le Create Stiamo Dicendo Quali Classi Vanno Implementare Quante Interfacce Perché Questo Qual è L'obiettivo È Che Il Tool Sia Autonomo Adesso Scrivendolo Magari Un po' Meglio Potremmo Farlo Così Implement Poi Magari Qui Ci sono Altre Opzioni Ad esempio Delegate To Injet Constructor Injet Method Cioè Possiamo Ad esempio Injet Field Ad esempio Una cosa Injet Property Potrebbe Eserci Utile Se il nostro Communicator Diventa Facoltativo Cioè Noi possiamo Dire Che Quando è Richiesto Un'interfaccia Di questo Tipo Venga Creato Un oggetto Di questo Tipo Valorizzando La proprietà Con un certo Nome A un certo Valore Quindi Praticamente Stiamo Istruendo La nostra Factory Su come Andare A creare Questi Oggetti Oppure Ci sono Questi As As Singleton Che vuol dire Nel momento in cui vai a creare un communicator Se ce n'è già uno Riutilizzi quello Se mettiamo As Transient Che è generalmente un default Vuol dire Ogni volta che è necessario un oggetto di questo tipo Va ricreato As Singleton Per thread Vuol dire Se il thread è lo stesso Tu Continua a dare lo stesso oggetto Se hai un altro thread devi creare uno nuovo Questo è utile per Creare e riutilizzare un oggetto Ricreandolo per thread diversi In modo da evitare Le problematiche ovviamente di multi-threading Soprattutto se l'oggetto non lo supporta Non è thread safe Ma senza creare necessariamente Sempre una nuova istanza dell'oggetto Se il thread è lo stesso Perché non c'è nessun rischio Nel creare gli stessi Nel invocare i metodi di quell'oggetto All'interno di uno stesso thread Quindi Quindi lui registra Potremmo fare anche un pool Possiamo dirgli pooled Quindi lui parte inizialmente con 10 stanze Da un minimo di 10 a un massimo di 20 E man mano che vengono richieste Lui passa degli oggetti che fanno parte del pool Fine esaurimento Quindi questo può essere utile per connessione ai dati Per tutti quegli oggetti che sono molto richiesti E quindi li vogliamo trattare in modo transiente Ma gestendo anche un pooling Quindi un oggetto se non è più utilizzato Ha bisogno di essere restituito Ripassiamo lo stesso e lo riutilizziamo Fino a un certo limite Quindi insomma è Come dire È una macchina abbastanza flessibile Quindi qui lasciamo pure Anzi mettiamo questo come singleton C'è anche un Ref counting configurabile Non so come Quindi in un momento poi non lo conosco Non so Questi sono tutti i metodi Cioè sono tutti i metodi Che invocati Restituiscono O lo stesso container O comunque un'interfaccia Con cui chiamare nuovi metodi Che vanno a Integrare le informazioni Che sono A disposizione di quel Di quel registro Di quel container Quindi anche qui Prendiamo repository E gli diciamo ad esempio As singleton per thread Quindi Se ti viene richiesto Dallo stesso thread Piace più senza parentesi Che molto più Dallo stesso thread È inutile crearne uno nuovo Poi potremmo fare ad esempio Container Register Type Semplicemente Di Employee manager Lo registriamo perché? Perché rendiamo nota al container Anche L'esistenza di questa classe E gliela possiamo richiedere Quindi supponendo di Spazzare via tutta questa roba Un primo risultato Che potremmo valutare Se funziona correttamente È questo Employee manager Invece che fare la create Esplicitamente Noi cosa potremmo fare? Potremmo dire Al container Di fare un Presumo che si utilizzi Resolve Employee manager Di darci Un'istanza Del nostro Employee manager Quindi interagiamo Con la nostra Factory E anche storage Di oggetti Chiedendogli Di darci Un employee manager Come fa? Lui andrà a esaminare Employee manager Che è una classe Sendo una classe Dovrà Essere invocato Il costruttore Nel costruttore Troverà i riferimenti A Un communicator E un employee repository Che sono Interfacce Quindi in questo caso A questa interfaccia Dovrà essere fornito Un riferimento A un oggetto Quindi dovrà creare Un oggetto Come fa a sapere Quale oggetto creare? Avrà all'interno Del suo registro Un'informazione Che gli dice Che questa interfaccia È implementata Dal fake employee repository E il communicator Dal fake communicator Quindi utilizzerà Queste informazioni Per creare Come singolo oggetto Per ogni richiesta Per un singolo oggetto Per ogni thread Gli oggetti Della catena Che servono Da passare Come riferimento Alla creare Dell'employee manager Quindi mi aspetto Che da questa istruzione Tutto quanto Venga Inizializzato Correttamente Proviamo a fare Un run Con un debug In modo da fermarci Magari Type Missing Guide Sì giusto Ok Questo è un registration exception Quindi ci sono Dei constraint Non lo sapevo C'è la prima volta Che lo utilizzo Questa libreria E richiede I guide Sull'interfaccia In effetti Io Tra l'altro Sono abituato A metterli Ma stavolta Non Non l'ho fatto E quindi Questo è un po' Un retaggio Del vecchio Com Però probabilmente C'è un Un uso di O per compatibilità All'indietro Perché usa support E altre cose Probabilmente Lato Lato container Ne ha bisogno Quindi ne fa uso O come chiavi Ok Stavolta siamo arrivati Fino a qui Quindi la registrazione È andata a buon fine Provo a fargli fare Uno step E a vedere Cosa succede Container Has changed The registration Information Build required Ah giusto Giusto È vero Cioè Non in tutti Perché in alcune Bir Sì Bir Ciao Magari Sono le 11 Dopo una giornata Di lavoro In alcune Implosizioni Implementazioni Di container Ma questo è abbastanza Frequente È necessario Fare una build Del container La build Cosa fa Cioè Praticamente Quando noi Facciamo delle Registrazioni Esistono Dei requisiti Cioè Esistono delle regole Ad esempio Potremmo aver registrato Più di un tipo Oppure aver messo Una registrazione Condizionata Varie Clausole Oppure Che ne so Aver registrato Un tipo Che però Non è in grado Di inizializzare Cioè Il concetto Qual è Che Il container Viene configurato Quando noi Facciamo la build Vuol dire Abbiamo finito Le registrazioni E Sulla build Generalmente Viene fatto Un controllo Cioè Viene costruito Una sorta Di grafo Interno Che poi Viene usato Come cache Cioè Tutta la configurazione Che noi abbiamo fatto Viene usata Per essere Verificata E poi successivamente Impiegata Per l'effettiva Creazione Degli oggetti Quindi Nel momento in cui Facciamo delle nuove Register O comunque Cambiamo la configurazione Dal momento in cui Creiamo il container Dobbiamo invocare Il build Prima di creare Gli oggetti O a successive Cambiamenti In modo da avere Questa cache E anche queste verifiche Correttamente Implementate E gestite Quindi Mi aspetto Che magari Non so Registrando il tipo Employee manager Se non registriamo I tipi Che ci sono sopra Ci venga magari Segnalato un errore Cioè Che lui vada A controllare Che Tra i tipi registrati Viene uno Dove Noi abbiamo Però Non gli abbiamo Dato informazioni Insufficienti Per costruire Dei tipi Degli oggetti Che sono strettamente Correlati In alcuni casi Questo viene fatto A resolve time Cioè Nel momento in cui Gli chiediamo l'oggetto In altri invece C'è questa sorta di build Che fa Una Una verifica Un check E Se dà l'ok Vuol dire che Almeno Per A meno di casi particolari Possiamo utilizzarlo Per creare delle istanze Quindi Rilancio l'applicazione Dopo aver fatto il build Vediamo se il build Segnala problemi Soprattutto Adesso siamo fermi qui Facciamo uno step Lui è avanzato Però dobbiamo vedere Beh di certo Non ha passato Nill Perché altrimenti Avremmo visto Un'eccezione Quindi Mi aspetto Di vedere Inizializzati Qui dentro Gli oggetti Del Del nostro Employee manager Riesco Aggiungerlo Siccome sono in debug Magari con Troppe ottimizzazioni Attivate Simbolo eliminato Da linker Grazie Ok Ok Intanto vediamo Se stampa Ok Comunque stampa Gli employee Quindi vuol dire che Il repository Gli l'ha passato Quindi io Semplicemente Gli chiedo Dammi un manager Banalmente Lui Risolve Tutte le dipendenze Cioè cerca di Crearlo Posto che Noi l'abbiamo Precedentemente Istruito Su quali sono Le istanze Da inizializzare Con quali parametri Eventualmente Con quali proprietà Eccetera Eccetera Se Tolgo Uno di questi Mi aspetto Che O in fase Di build Del container Perché può Anche avvenire lì O in fase Di creazione Del manager Ci venga sollevata Un'eccezione Che ci dica E guarda che Vediamo se arriva Al build Al build C'è arrivato Però mi aspetto Che nel momento In cui gli chiederò Di risolvere L'employee manager Lui ci dia Un'eccezione Per dirci Guarda L'employee manager Mi richiede Vediamo quanto È dettagliata Non ci ha detto Nulla Quindi che cosa Ha passato Ho commentato Il repository Come fa Ah Un access violation Però Questo è un caso Un po' curioso Questo è molto curioso Perché Aspetta va che Lo ricompiliamo No Il risultato Non cambia Sto cercando Di capire A tutti gli effetti Che cosa Sta passando Al posto Di quell'employee manager Tanto Vediamo Se ci sono Delle opzioni Anche In un certo Senso Configurabili Abbiamo il nostro Kernel Con Il registry Resolver Tutte le Parti Come dire Fondamentali Di un container Cioè Quindi questo è proprio Un po' da manuale È curiosa Questa cosa Vediamo se Ci sono anche Dei Possiamo dare Un service name Alla classe Quindi Però mi Mi sfugge Resolve all Ovviamente Inizializza Più servizi Vediamo se Ci sono Anche Altri Io Qui vedo Solo Una Una Release Quindi direi Che non dovrebbero Eserci altre Cose Molto curioso Sarei molto Curioso Di sapere If assigned If not assigned Vorrei fare questa verifica Giusto per capire Per essere sicuro Che La cosa Non avvenga In modo Trasparente No Inizializzato Inizializzato Però All'interno Di employee repository Che cosa ha messo Come Inil Però avrebbe dovuto Dare un'eccezione Qui Perché se non è assegnato Dovrebbe Dovrebbe Sollevare Quest'eccezione Questo è un po' È curioso Come tipo di Come tipo di errore Dopo È normale Che non funzioni Anche perché Inil La cosa Da provare Sarebbe Scusa Se io Chiedo Employee manager Create E gli passo Un bel Nil Nil Io non mi aspetto Che questo Funzioni Mi aspetto Di vedere Per l'eccezione Esatto Communicator Is nil Quindi Se qui invece Gli lo passo If i Communicator Create Mi aspetterei Di vedere Repositori Is nil Perfetto Leggetter Type Allora Quest'iniezione Del costruttore Non sono Costretto Dirglielo Perché Dovrebbe Determinare In automatico Quindi Non capisco Allora Se ha la Registrazione Corretta Funziona Quindi Se è Implementato Così Non mi Capacito Come possa In ogni Caso Riuscire a Creare L'oggetto Forse Gestisce Le eccezioni In qualche Modo E non C'è Un fail Però Vedere Se bere Mi dà Dei Suggerimenti Però Quanto Quanto Mene Curioso Ok Non vado Esplorare La resolve Ma Qui ovviamente Non mi aspetto Di trovare Molte Informazioni Eventualmente Sul Diciamo Nel caso Corretto Come dire Come dire Funziona Se non Lo Registro Mi dirà Che non sa Di cosa sto Parlando Forse Forse Stavolta Non ce la Fa Davvero Che hanno Resolve Type Employee Manager Esatto E quello Questo è L'errore Che io mi Aspetterei Di trovare Anche per L'interfaccia Employee Repository Nel momento In cui Viene Richiesto Cioè Dovrebbe Dire Guarda Per creare Il tuo Manager Employee Manager Dovrei Dirgli Quest'informazione È Ridondante Direi Dovrebbe Darmi Lo stesso Errore Cioè Mi Dovrebbe Dire Per I Repository Io Non Ho Idea Di Che cosa Passarti Invece Ci prova Lo stesso Passa Nil E Però Nel momento In cui Passa Nil Alla Fine Non Non Funziona Ovvero C'è un'eccezione Però Probabilmente Viene Trappata E Non Intercepted By As Default As Default Ci sono Vari Metodi Però Non c'è Nulla Che Faccia Questo Per Resolve Non Un'idea Di Di Che Ruolo Abbia Ma Ma Totalmente Trasparente No È un po' Troppo Permissivo A questo Punto Mi viene Da dire Nel senso Che Dovrebbe Effettivamente Arrabbiarsi Cioè Cioè A meno Che Io Non Gli Dica Sul Container Che Qui Lui Nel Costruttore Deve Come Arguments Passare Un E Gli Metto L'array Gli Dico Nil E Gestisco La Cosa Autonomamente Lui Dovrebbe Tentare Di Creare Gli Oggetti In Ogni Caso O Quanto Meno Ci Sta Che Provi A Crearlo Magari Con Dovrebbe Dare Un Errore Cioè Dovrebbe Non Proseguire Quello E Invece Comunque Si muove Lo stesso Come Legge Stealth Type Resolve E Invece Lo Cioè Va Avanti Lo stesso Poi Però Ovviamente Tutto Va In Crash Perché Il Il Nostro Employee Repository Non è Impostato Quindi Bisognerebbe Un po' Un po' Indagarlo Approfondirlo Mentre Se mettiamo Tutte le Dipendenze Ovviamente Pilota Automatico Funziona Correttamente Come Vediamo Vabbè Adesso Ho lasciato Un po' Di Sa Che Ho lasciato Un po' Di Di Memory Leak In Giro Faccio Delle prove Semplificando Ok Ok Quindi che dire Insomma abbiamo appena iniziato A Come dire Toccare un po' La superficie Magari La cosa che Converrebbe Fare E vedere Un po' Gli esempi Che ci sono A corredo Che sono Sembrano anche Molto Interessanti Perché a tutti Gli effetti Assieme Assieme Alla Libreria Abbiamo Un Spring 4D Samples Intro Dependence Injection Abbiamo Un po' Di esempi Che sembrano Molto C'è Un starting out Con un po' Di Introduzione Tipo Processiamo Un ordine O del Processor Crea un ordine Crea il processore Il process order Farà un po' Di cose Usa Un order Validator Che viene passato Ovviamente Come Oggetto esterno Qui viene creato Qui viene fatta La create Quindi qui Il primo step Della dipendenza Cioè il fatto Di separare In Classi separate Tutte le varie Responsabilità Però Di nuovo C'è un problema Ovvero C'è la creazione Degli oggetti Direttamente Nel costruttore Poi c'è Il moving To interfaces Dove Inizia a fare Uno step Diverso Ovvero Order processing È uguale L'order processor Nella Create Va a inizializzare Degli oggetti Però Questa volta Gli oggetti Non sono Classi Ma sono Delle interfacce Quindi è passato Dall'oggetto Effettivo Alla cosiddetta Spin Allo spinotto Che è possibile Il problema Qual è che Ancora sta Istanziando Le classi Direttamente Qui dentro E quindi C'è una Una Cioè se io Metto qui Order Validator Ho una Dipendenza Diretta Da questa Unit Da questa Classe Passando Alla Constructor Injection Che cosa Avviene Che Nella creazione Del Order Processor Vengono Vengono create Le classi Che gestiscono Queste Fasi E In questo Caso È nella Create Che vengono Passati I riferimenti Agli oggetti Più o meno Come abbiamo Fatto noi Anche se qui C'è qualcosa In più Per fare Un test E iniziare A lavorare Con la Logica C'è la Parte Di Mox Quindi C'è un Order Processor Che usa Due Classi In questo Caso Che fanno Implementazione Che sono Però Due Moc Ovvero Due Classi Che Alla Fine Fanno Di Gran Write Line Non Scrivono Niente Quindi Sono Perfetti Da Per costruire Le varie Implementazioni Come L'Order Processor L'Order Validator Che fanno Tutta una serie Di cose Quindi Do Order Processing Crea Di nuovo Questo Con delle Classi Più Concrete Che Vengono Passate Dal Costruttore E Utilizzate In Questa Process Order Quindi Qui Praticamente Orchestriamo Dei Metodi Di Oggetti Che Ci Vengono Passati Lo Step Successivo E Usare Il Container Quindi Qui Ha Fatto La Registration Ha Fatto Register Type Order Entry E Order Validator Probabilmente Con Questa Register Type Non c'è Bisogno Di Mettere Implements Perché Andando A Vedere Il Tipo Vede Che Implementa Una Certa Interfaccia Quindi Laddove Questa Sarà Utilizzata La Libreria È Abbastanza Intelligente Da Sapere Che Dovrà Creare Questo Tipo Quindi In Genere Fare Del Register Type È Sufficiente Questa È Molto Di Base E Poi Fa La Sua Build Quindi Ha Creato Una Unit Quindi Noi Possiamo Gestire Separatamente La Configurazione Di Queste Classi Da Istanziare E Poi A Certo Punto Far Creare La Classe Che Contiene Il Tutto E Quindi Costruire Il Graffo In Automatico Magari Questi Tipi Sono Scritti Anche In Un File Esterno Perché Nulla Vieta Di Costruire Questa Configurazione Caricandola Anche Da Un File Invece Che Definendola Così Tramite Codice Questa È Quella Più Sicura Ma Questi Sono Tutti I Wrapper Che Vanno Dato Il Tipo Vanno A Recuperare Il Type Il Class Type E Cosa Va A Fare Non Lo So Di Più Però C'è Il Nostro Costruttore Non So Se È Qualcosa Di Diverso Rispetto A Quello Di Prima C'è Field Injection Register Types Il Register Tipi Il Validator Field Injection Ok Usa L'attributo Inject Ecco Questo È Uno Degli Anti Pattern Che Suggeriscono Di Non Utilizzare Cioè Di Non Fare In Modo Che Piuttosto Usare Un Create Usare Un Construttore Injection Però Usare Gli Attributi A parte Che Spesso Sono Attributi Specifici Nella Liberia Quindi Vi Leggo In Questo Caso Alla Liberia Anche Le Classi Implementative Oltre In Questo Caso Un Attributo Nel Sino Che Nel Momento In Cui La Liberia Spring For Dei Campi Con Attributo Inject Se Lo Trova Guarda Il Tipo E Gli Assegna Un Riferimento Quindi Forse Anche Per Questo Che Si Fa Poco Pochi Problemi Nel Qui Ci Sono I Decorator Che Sono Un'altra Cosa Ancora Che Onestamente Non Ricordo Ma So Che Ci Sono Customize Attribute Quindi Qui Si Si Complica Si Complica Un Po La Faccenda E Vengono Usati Un Po Poi Questo Non È Ancora L'advanced Quindi Figuriamoci Intercept By Qui Ci Sono Addirittura Delle Clausole Di Logging Se Loggare Oppure Meno Secondo Delle Occasioni Quindi C'è Propri Un Però Si Direbbe Che Si Limita A Questo Register Type E Almeno A livello Base Non ci sono altre cose Da Come dire Da Sviscerare Quindi Il sistema Lavora in questo Modo Adesso Magari Penserò Se c'è un esempio Un pochino Più Un po' Più Concreto Magari Da portare In una Live Più Tutorial Ecco Con Qualche Riferimento In più Per Vedere Vedere Un po' Meglio Queste Cose Qui Però Se Uno Volesse Approfondire Sia La dependency Injection Di cui Abbiamo Parlato Sia Gli esempi In maniera Un po' Più Bisognerebbe Abituarsi A strutturare Le applicazioni In questo Modo E so Che Non è Non Sempre Cosa Facile Però Si ottengono Dei grossi Benefit Una volta Preso La mano E Diviso Tutto In questo Modo Perché Ogni Pezzettino È Estremamente Intercambiabile E quindi Anche per una questione Di Non so Voler testare Delle performance Volere Provare Diverse Implementazioni Si riescono A scambiare I pezzi Come se fosse Un lego Quindi Diventa Molto Molto Versatile Questa Liberia Può essere Utile Per dare Una mano Nel costruire Appunto Il grafo Degli oggetti Tenere in memoria Quegli Oggetti Che sono In realtà Molti Contain Sono Implementati In Molte Librerie Suddivise Ad esempio So che Le librerie Per lo sviluppo REST API Tipo Mars Tipo Whirl Hanno Un loro Sistema Interno Di Dependency Injection Ovvero Hanno Una specie Di Micro Sistema Molto Simile A questo Di Spring For Delphi Che Permette Di Registrare Alcuni Servizi E Fare In Modo Che Non So Avete Un Controller Che Quella Classe Che Alla Richiesta Di Una Specifica Risorsa Magari In Get Se Voi Avete Un Campo Con Appunto Il Vostro Entity Manager E Ci Mettete Una Inject Sopra Il Framework Vi Passa Automaticamente In Istanza Della Classe Che Avete Configurato Quindi Non È In Questi Contesti Sì Diciamo Della Libreria L'abbiamo Visto Molto Abbiamo Parlato Molto In Astratto E Codificato Però Abbiamo Gettato Un Po Le Base Se Magari Può Interessare Eventualmente Possiamo Fare Una Live In Futuro Dove Approfondiamo Anche Gli Aspetti Avanzati Del Della Gestione Della Dependency Injection Oppure Delle Cose Anche Yorm Giusto È Vero Forse L'avevamo Anche Incrociato Nella Demo Che Abbiamo Fatto Ha Un Dependency Injection Container Sì Perché Serve E Mancando Diciamo Embedded In Delphi Ma Non Solo In Delphi Un Dependency Injector Che Sia Standard Di Fatto Alcune Librerie Ne Usano Magari Uno Già Fatto Altre Lo Re Implementano Magari Ritagliato Sulle Esigenze Specifiche Di Quell' Ambito Di Utilizzo Sì So Che Non L'avevamo Testato Direttamente Ma C'era Un Contesto In C'era Uscito Comunque Si è Parlato Che Quello Veniva Gestito In Automatico Assieme Alle Altre Stanze Forse Mi Ricordo Male Io Pu Anche Darsi Però Mi Ricordo Che Su Che Sapevo Che Su Iorm C'è Anche Lì Un Dependence Injection Qui Ci vorrebbe Una Cosa Come Microsoft Services Che Sono Stati Introdotti In .NET Core Ovvero Esatto C'è Quando si Lavora Interfaccia Le Che Si Si Anche Che Si Posa Lavorare Facendo Ad esempio Dei Adapter In Modo Da Integrare Nei Framework Una Sorta Di Wrapper A Un Dependence Injection Generica Mettendocene Una Embedded Oppure Un Framework Esistente Per Chi Già Usa Un Framework Di Dependence Injection O Di Altro Tipo Quindi Spesso Avere Un Default Da Quel Lato E Anche Dal Lato Della Configurazione Ad Esempio Non Sarebbe Una Cattiva Idea Però Anche Così Come Come Implementato Basta Fare Le Risposto Qui Così Posso Fare Qualche Saluto Quindi Una Live Molto Tranquilla Un Po' Di Coding Però Volevo Un Attimo Riprendere Sia Questo Argomento Perché Un Po' Che Non L'approfondivo Almeno Dependence Injection Direttamente Sarebbe Ottimale Esatto In Nullable Sì Quelli Dovrebbero Arrivare Quindi So Che Ci Avevamo Fatto Un Brainstorming Una Volta Nel Corso Di Una Conferenza C'eravamo Lambicati Sulla Problematica Che Un Intero Nullable In realtà Non è Più Un Intero Ma Un Record E Quindi Un Ad Fatto In Assembler Diventerebbe Diversa Perché Quel Punto E La Chiamata A Un Metodo Con Overload Quindi Le Prestazioni Se Abbiamo Visto Che Comunque Non Spring 4D Si Diciamo Integrati In Delphi Non lo So Perché Effettivamente Molto Pick and Choose Come Dicono Loro Cioè Ci Sono Diverse Cose Quindi Come Dio Un'implementazione Di Base Sarebbe Utile Sia Per La Gestione Della Configurazione Ad Di Pronto Disponibile E Poi Chiaramente Se Non È Soddisfatto Va A Prendersi In Qualche Altra Libreria Con Delle Feature Un Po Come Esiste La Parallel Library E Se Non Sono Felice Di Quella Mi Vado Sull' Omnithread Library E Magari Trovo Tante Altre Cose Interessanti Simpatiche E A quel punto Uso Quella Se Ci sono Più Abituato Oppure Però Diciamo Sì Un'alternativa Nella Scatola Per gestire Queste cose Un po' Più Comuni Non Sarebbe Non Sarebbe Malvagio Ma Vabbè Lì Cioè Come Dire Gli strumenti In ogni caso Ci sono E quindi C'è Quello Che Manca Un po' La definizione Di uno Standard Che Potrebbe Essere Utile In modo Che Progetto Che Vai Di Delphi Non Trovi Un' Implementazione Di Qualcosa Che Ormai Quindi Semplifica Anche Un po' L'approccio Alla Configurazione O Alle Operazioni Più Comuni Che Si Fanno Nella Nello Sviluppo Dell'applicazione Quindi Gestione Dipendenze Configurazione Servizi Che Poi Sempre Dependence Injection E cose Di questo Tipo Non Sarebbe Male Però Ci Si Può Magari Lavorare Potrebbe Essere Un Come Dire Un'area Dove Fare Un po' Di Ricerca Ok Dunque Mi direi Che Pesta Sera Vi ho Già Tediato Abbastanza Quindi La cosa Che Potrei andare A vedere Se c'è Qualcuno Per fare Un ride So Che So Che C'era Si parlava Da una Parte Di C'era Un canale Dove Si parlava Di Ragni E Quindi Non so Se Vedo Se Ci sono Altre Cose In Tema Sviluppo Ma Direi Che Non Non Ne Vedo Vedo Che C'è Un Canale Nuovo Che Sto Seguendo Da Un po' Di Tempo Dove Si Stanno Divertendo A Giocare No Stanno Giocando C'è Un Titolo Ma Poi Si Sta Giocando Ad Altro Foto Di Ragni Quindi Se Volete Vedere Delle Foto Di Ragni Non Siete Sensibili Vi Potrei Buttare Sul Canale Della Mitica Dana Che Dana Schelli Che Direi Intanto Noi Ci Salutiamo Quindi Rimanete Collegati Così Vi Vedete Un po' Di Arachno Se Non Avete L'arachno Fobia Vi Vedete Ragni Che Non Sono Ragni Infatti Volevo Rimandare La live Per Vedere Quella Guarderò Il video On Demand Perché Comunque La cosa Mi Fa Un po' Schifo Ma Mi Interessa Per Cui Niente Ringrazio Come Sempre Quelli Che Si Collegano E Fanno Sempre Compagnia Spero Come Sempre Che Sia Comunque Utile E Direi Ci Vediamo Alla Settimana Prossima Poi Adesso Faremo Anche Una Programmazione Un pochino Più Più Elaborata Quindi Vedremo Di Sfruttare Un po' Meglio Questo Canale Con Qualcosa Di Più Organico Che Non Vuol dire Cacca Ma Di Un Altro Tipo Niente Grazie Ancora Quindi Quasi Venerdì Buon Weekend Buon Notte E Alla Prossima Live Alla Prossima Grazie.